Buon ascolto. Audio parallelo inglese. Impara l'inglese con 501 frasi utilizzando l'audio parallelo. Volume 1. Scritto e narrato da LingoJump. Parliamo. Faremo in modo che impari una nuova lingua in un attimo. Il sistema di apprendimento delle lingue tramite audio parallelo di LingoJump renderà semplice e comodo imparare una lingua. Sia che tu ti stia rilassando o sia in viaggio, le nostre lezioni audio facili, chiare e divertenti ti aiuteranno a imparare attraverso l'imitazione dei nostri narratori. Quindi, immergiti con fiducia in una nuova lingua, siamo qui per farti parlare, utilizzando frasi che imparerai con facilità attraverso gli audio paralleli. L'audio parallelo è la chiave della metodologia di apprendimento linguistico di LingoJump. Attraverso la ripetizione di parole e frasi pronunciate con chiarezza e a un ritmo facile da seguire, non solo per te, sarà più semplice capire e parlare per una nuova lingua, ma migliorerai anche la tua memoria, aumenterai le tue capacità di ascolto e avrai un accento corretto. I nostri narratori seguono uno specifico schema vocale in tutto l'audiolibro, rendendo le frasi prevedibili e aiutandoti a capire parole e frasi attraverso il contesto. Ti terremo concentrato esclusivamente sulla lingua, senza nessuna musica di sottofondo a distrarti. Parla come un abitante del posto. Sappiamo che non tutti parlano allo stesso modo, dialetti, tempi e accenti possono variare a seconda delle diverse regioni di un paese e perfino tra i quartieri di una stessa città. Quindi, all'inizio del corso, gli audiolibri, ascolterai i nostri narratori utilizzare frasi ripetute con diverse intonazioni, rallentando, accelerando e ponendo l'accento sulle varie parti delle frasi. Questo contribuirà ad accelerare la tua capacità di comprendere e parlare la lingua in modo naturale. Veloce, senza sforzo e divertente. L'esclusivo sistema di apprendimento della lingua in audio parallelo di LingoJump combina ripetizioni, velocità diverse e modelli di parlato prevedibili. Il semplice ascoltare le frasi ripetute ti aiuterà a imparare le lingue per istinto, preparando il cervello ai modelli ricorrenti di una lingua. È come se ti lanciassimo di continuo una palla alla stessa maniera, in modo che tu possa presto afferrarla senza pensarci. Perfetto per tutti i livelli. LingoJump è l'ideale per fare in modo che i principianti possano parlare una nuova lingua quasi immediatamente. Il sistema di audio parallelo aiuta inoltre gli studenti di livello intermedio e avanzato a parlare una nuova lingua fluentemente. Via via che progredisci, il sistema di audio parallelo ti farà ripetere le frasi al loro ritmo naturale, rimuovendo le versioni più lente. Puoi mettere alla prova le tue abilità di ascolto e comprensione appena acquisite nei capitoli finali, dove ascolterai le frasi senza alcun audio parallelo. Questa motivante funzionalità ti aiuterà a tenere traccia dei tuoi miglioramenti e ti consentirà di parlare una nuova lingua con sicurezza. Rapido automiglioramento. Abbiamo progettato i primi due capitoli in modo da offrire una facile immersione. I nostri narratori scompongono ogni parola nelle sue distinte sillabe e parlano lentamente. Questo ti aiuterà a cogliere ogni sfumatura della lingua, rendendo più facile migliorare le tue capacità di ascolto e di espressione in maniera totalmente autonoma. Impara ovunque. Abbiamo sviluppato i nostri corsi di lingua appositamente per l'apprendimento audio, in modo che tu possa dedicarti ad altre attività, mentre impari una nuova lingua. Puoi imparare mentre corri, ti alleni, cammini, guidi o anche quando stai sbrigando le faccende domestiche. Il nostro sistema di apprendimento in audio parallelo ti insegna ovunque ti trovi, senza bisogno di un manuale di riferimento. Immergiti nella lingua. Per meglio approfondire la lingua che stai imparando, ciascun corso LingoJump include un e-book di riferimento, che ti fornirà un approfondimento quando necessario. Capitolo 1 Parte A Non c'è miglior modo di imparare che imparare da soli. Neil deGrasse Tyson Cominciamo a parlare. Stai per ascoltare e pronunciare frasi in audio parallelo. Se consideri questo capitolo troppo facile, passa direttamente al successivo. Sei fantastico! Come vi conoscete? Lo spero! Lo spero! Lui è molto sofisticato! Lui è molto sofisticato! Non posso farlo ora! Non posso farlo ora! Non posso farlo ora! Non posso farlo ora! I cannot do it now. Ho fame. I'm hungry. I'm hungry. I'm hungry. I'm hungry. Aiutami, per favore. Please help me. Please help me. Il suo lavoro è eccezionale. Il suo lavoro è eccezionale. Il suo lavoro è eccezionale. Ha piovuto molto oggi. Sono un cristiano. Posso aiutarti? Non ti preoccupare. Voglio farti un regalo. Lo spero. Lui è un idealista. Ti va di andare a fare una passeggiata? Non molto bene. Lui è creativo. Siamo stati compagni di stanza. Mi piace lui. Come stai? Mio figlio studia informatica. Mi figlio studia informatica. Ci piace molto. Hai fratelli o sorelle? Non mi da mai nulla. 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 Sono molto affidabile. Abbiamo perso la partita. Abbiamo perso la partita. Abbiamo perso la partita. Aiuto. Sono stato licenziato. Sono stato licenziato. Lo farò, per leהו. Ho paura che... Ho paura che... Ho paura che... Ma hai paura che... Che cosa hai pensato? Vuoi una birra? Lui è potente. Hanno una buona reputazione. Fa freddo fuori. È sotto zero. Sono malato. Mi sono tagliato. Mi dispiace. Siamo al completo. Questa è la prima volta che sono qui. In tre settimane. In tre settimane. In tre settimane. In tre settimane. Cominciamo. Siamo in ritardo. Io ho tre bambini. Parlo inglese fluentemente. I am fluent in English. 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 Cosa vorresti per cena? E' vicino. E' vicino. E' vicino. Gli piace la scuola. Gli piace la scuola. Abzi? Abbiamo finito la benzina. Abbiamo finito la benzina. In quale università sei? Which university are you at? 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 Mi piacerebbe andare a fare una passeggiata. I'd like to go for a walk. 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 Mi ho uno in auto. I have one in my car. I have one in my car. I'd like to go for a walk. I have one in my car. Questo è il suo libro. That's her book. That's her book. That's her book. That's her book. È un miracolo. It is a miracle. Il cibo era pessimo. Non mi piace questo. I do not like this. I do not like this. I do not like this. Dimenticatene. Forget it. For-get-it. For-get-it. Forget it. Ho intenzione di andare a cena. I'm going to go have dinner. 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 Non ho una fidanzata. I don't have a girlfriend. I don't have a girlfriend. I don't have a girlfriend. Vi dispiace se ci uniamo a voi? Do you mind if we join you? 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 Lei è impopolare. She is unpopular. She is unpopular. She is unpopular. She is unpopular. Vuoi che accenda il televisore? Do you want me to put the TV on? Do you want me to put the TV on? Do you want me to put the TV on? Do you want me to put the TV on? Nessuno ci sta aiutando. Nobody is helping us. Nobody is helping us. Nobody is helping us. Nobody is helping us. Puoi spegnere la luce? Can you switch the light off? 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 Hai voglia di una pinta di birra? Do you fancy a pint? 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 Provalo. Sono un Sikh. I'm a Sikh. Cosa ti va da bere? What would you like to drink? What would you like to drink? Vuoi qualcosa da mangiare? Would you like something to eat? 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 Lavori domani. Are you working tomorrow? Fanno pagare 26 dollari al giorno. È più veloce di me. È un cammino piuttosto lungo. Il business è redditizio. Sono bravo con i soldi. Non tanto o non molto. Sono entusiasta. Hai mangiato abbastanza? Per favore spegni la radio. Non ho tempo adesso. Lavori. Lo avrei momento. Ora. Non ho tempo proprio ora. Non ho tempo proprio ora. Non avrei tempo proprio ora. Addio. Che ora è? È troppo dolce. Ho bisogno di una firma. Nessun problema. Di che colore è quella macchina? Ti ricorderai di me? Io sono Vetova. Posso acquistare un biglietto sul treno? Non sono sposato. Sono ricchi. Sono ricchi. Cosa fai nella vita? La tua opinione è preziosa. Vorrei comprare una bottiglia d'acqua. Come si prende? Sto venendo a prenderti. Che lavoro fa? Capitolo 1 E' troppo piccante. Non sono un turista. Ho letto molto. Studio economia. Studio economia. Mi sento bene. Mi sento bene. E' più grande di me. È più grande di me. È più grande di me. E' più grande di me. Qual è il tasso di cambio? Qual è il tasso di cambio? Il tasso di cambio? Qual è il tasso di cambio? Qual è il tasso di cambio? Pago. Io ho pagato. Io ho pagato. Io ho pagato. È un ottimo studente. È divertente. Sono di fretta. I'm in a hurry. Come stanno i tuoi genitori? Sono davvero dispiaciuto. Ho un sacco di cose da fare. Ho un sacco di cose da fare. A che ora dovremmo incontrarci? Ci vediamo. Ho ancora molto da fare. È degno di fiducia. È stato divertente. È stato divertente. Da dove arrivi? Non male. Grazie. Loro non mi hanno accolto. Farà freddo stasera. L'altro ieri. Non ho finito di mangiare. Non ti dimenticare. Questa è una tradizione. Questa è una tradizione. E tu? La stanza era silenziosa. La stanza era silenziosa. Quanto vuoi pagare? Quanti anni hanno? 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 Quanti hanno? Quanti hanno? Quanti hanno? Quanti hanno? Quanti hanno? Dove vorresti che ci incontrassimo? Il suo sguardo può essere molto intenso. Mi piace uscire. Mi piace uscire. Sto bene, grazie. Cosa ha detto? Era fuori controllo. Non ne sono sicuro. Ho bisogno di prove. Il pranzo è pronto. Per favore, aspettami. Va bene. A che ora arriviamo? Mi sono perso. Pochi mesi. L'ho visto. Di la verità. Dove devo pagare? Dove dovremmo andare? Dove dovremmo andare? Sei libero stasera? Cosa hai? Che c'è per pranzo? La mia domanda è stata respinta. Prendi questa strada. Abbiamo giocato a calcio. Iniziamo unire caratteristico. Vorresti unirti a noi? Dov'è l'ufficio vendite? Voglio farti una domanda. Dov'è l'ufficio vendite? Mi piaci. Mi piace. Sono un docente universitario. Questo è sconvolgente. Questo è sconvolgente. Ho bisogno di lavarmi le mani. Dov'è l'ufficio vendite? Perché stai ridendo? Il cibo era delizioso. Il cibo era delizioso. Il cibo era delizioso. Posso parlare con... Per favore? Per favore? Per favore? Posso parlare con... Per favore? Arribami con... Per favore? Devo parlare con... Soprilo! E' mio! It's mine, it's mine, it's mine, it's mine, ieri sera, yesterday evening, yesterday evening, yesterday evening. Dov'è il manuale? Where is the manual? Sono impegnato. Mi piace molto ballare. Per favore, lasciami in pace. Please leave me alone. Please leave me alone. Sei stato selezionato. Sto prendendo un anno sabbatico. I'm taking a gap year. Dov'è la stazione di servizio più vicina? Where's the nearest petrol station? Where's the nearest petrol station? Where's the nearest petrol station? Stasera. Tonight. 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 Dov'è sono i tuoi bambini? Where are your children? Where are your children? Where are your children? Where are your children? Non penso proprio. I don't think so. I don't think so. I don't think so. I don't think so. È impossibile. It is impossible. It is impossible. La prossima volta. Next time. Next time. Next time. Sei intelligente. Mi dispiace. Per favore, siediti. Nessun commento. No comment. Arrivo subito. I'm coming right now. I'm coming right now. I'm coming right now. Quanto costerà? Ho bisogno di un'altra chiave. I need another key. Sarò lì tra cinque minuti. Mi piacciono le sorprese. Che cosa ci dice questo? Sono un cattolico. Ti dispiace se mi siedo qui? Sto studiando per diventare medico. Non fare lo sprecone. Do not be wasteful. State tutti bene. Capitolo uno. Parte C. Hai nipoti? Do you have grandchildren? Do you have grandchildren? Do you have grandchildren? La decisione è definitiva. The decision is final. Che lingue parli? Che lingue parli? What languages do you speak? 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 Non l'hanno ancora incontrata. They haven't met her yet. Il denaro non mi motiva. Money does not motivate me. Money does not motivate me. Money does not motivate me. Pensa che non vogliamo andare. He thinks we don't want to go. He thinks we don't want to go. He thinks we don't want to go. Lui è molto convincente. He is very convincing. He is very convincing. Ho preparato questa torta. FaceTime I baked this cake. chi What could I do for you? Mi rifiuto di... I refuse to. Refuse to. I refuse to. I refuse to. I refuse to. È lontano? Is it far? Is it far? Is it far? Is it far? Quanti anni ha? How old is he? How old is... How old is he? How old is he? How old is he? Sei uno studente? Are you a student? Are you a student? Are you a student? Are you a student? Have you got any kids? Have you got any kids? Non sono andato all'università. I didn't go to university. 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 Parlo due lingue. I speak two languages. I speak two languages. I speak two languages. Conto su di te. È stato facile. Non è lontano da qui. Qual è il problema? Esso crea troppi rifiuti. Cozai? Puoi chiamarmi un taxi, per favore? I suoi vestiti sono molto moderni. Dove siamo adesso? Poco più di due anni. Sono determinato. In quale università studi? Sei da solo. Sto facendo un corso in questo momento. Lei è così socievole. Vorrei andare a casa. Il prima possibile. Di chi è la colpa? Mi piace ascoltare musica. Che bella giornata! Sei molto gentile. Quanti? Qual è l'obiettivo? Quanto tempo sei rimasto in America? Ho perso il lavoro. Ho perso il lavoro. Mi hai fatto piangere. Mi hai fatto piangere. Mi hai fatto piangere. Mi hai fatto piangere. Hai fatto buon viaggio? Mi hai fatto piangere. Mi hanno fatto piangere. Mi hai fatto piangere. Mi hanno fatto piangere. Vorrei mangiare qualcosa. I would like to eat something, I would like to eat something, I would like to eat something. Studia presso, he studies at, he studies at, he studies at, è lontano da qui. It's far from here, it's far from here, it's far from here. Richiamerò più tardi. I'll call back later. Later, I'll call back later. I'll call back later. Sono d'accordo. I agree. I agree. I agree. I agree. Quanto dura? How long is it? Lui non mi piace. I don't like him. I don't like him. I don't like him. I don't like him. Lei non mi piace. I don't like her. I don't like her. I don't like her. I don't like her. Quanto costa? How much is it? How much is it? Si prevede pioggia. It's forecast to rain. It's forecast to rain. It's forecast to rain. It's forecast to rain. Come paghi? Stai perdendo il tuo tempo. You are wasting your time. You are wasting your time. You are wasting your time. You're wasting your time. Non essere negativo. Do not be negative. Do not be negative. Hai finito di studiare? Have you finished studying? Have you finished studying? Have you finished studying? Have you finished studying? Hai voglia di un drink veloce? Do you fancy a quick drink? 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 La tua casa è come questa. Is your house like this one? 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 Stai vedendo qualcuno? Are you seeing anyone? Sono un sognatore. I am a dreamer. Sì, ho capito. Sì, ho capito. Sì, ho capito. Sì, ho capito. Do not be stupid. Do not be stupid. Come può essere? How can that be? How can that be? How can that be? How can that be? Lavoro lì da cinque anni. I've worked there for five years. 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 Domani sera. Tomorrow night. Tomorrow night. Tomorrow night. Tomorrow night. Ho un lavoro a tempo pieno. I've got a full-time job. I've got a full-time job. I've got a full-time job. Lui è in cucina. He's in the kitchen. He's in the kitchen. He's in the kitchen. He's in the kitchen. Hai la mia parola. You have my word. La festa è stata annullata. Sono scioccato. Prendi questa medicina. Non ti deluderò. I won't let you down. 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 Si volto. Hai troppe scarpe. Perché hai detto ciò? Mi sento solo. Ho il raffreddore. Che tipo di musica ti piace? What sort of music do you like? What sort of music do you like? Non sono d'accordo. I disagree. I disagree. I disagree. I disagree. Sono bilingue. I am bilingual. Ecco qui. Here it is. Here it is. Here it is. Here it is. Lavoro in un call center. A che ora apre il negozio? Chi è il prossimo? Chi è il prossimo? I tuoi figli sono con te? Are your children with you? 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 Quale squadra tiffi? Which team do you support? 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 Due settimane fa. Vorrei pagare il conto, per favore. Sta arrivando. Ho perso il mio orologio. Lei è molto elegante. Tu sei molto paziente. Ero in biblioteca. I was in the library. La mia famiglia era povera. La mia famiglia era povera. La mia famiglia era povera. Vorrei fare check-out. Grazie per la bella serata. Che lavoro fa tuo padre? Mi piace il rischio. No, sono ateo. No, I'm an atheist. No, I'm an atheist. No, I'm an atheist. Capitolo uno. Parte D. Dove vivono i tuoi genitori? Where do your parents live? Where do your parents live? No, questa è la prima volta. No, this is the first time. Mi piace. Devo andare ora. Andrò in America l'anno prossimo. I'm going to America next year. I'm going to America next year. Lei pianse. She cried. She cried. She cried. Fallo bene. Do it properly. Do it properly. Do it properly. Do it properly. Il treno è in ritardo. Che peccato. Che peccato. Che peccato. Che che peccato. Che peccato veramente上vato? Che peccato? it. How do you spell it? How do you spell it? Stai attento. Be careful. Be careful. Be this is very difficult. Qual è l'indirizzo? What is the address? What is the address? What is the address? La settimana scorsa. Last week. Last week. Last week. Last week. Io di solito bevo caffè. I usually drink coffee. I usually drink coffee. I usually drink coffee. Prova a pronunciarlo. Try to pronounce it. Try to pronounce it. Try to pronounce it. Sei vestito in modo troppo formale. You are dressed too formal. You are dressed too formal. Posso accompagnarti a casa in macchina? Can I drive you home? Can I drive you home? Can I drive you home? Lavoro nel settore IT. I work in IT. I work in IT. I work in IT. Sono stato molto occupato. In 10 years time. In ten years time. In ten years time. In 10 years time. In ten years time. In ten years time. Fa estremamente caldo. It is extremely hot. It is extremely hot. It is Where do you work? Where do you work? Ho così tanti debiti. I have so much debt. I have so much debt. Ho quasi finito. I am nearly finished. I am nearly finished. I am nearly finished. Mi piacerebbe. I would like. I would like. I would like. I would like. Posso offrirti da bere? May I buy you a drink? 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 Voglio solo uno spuntino. I only want a snack. I only want a snack. I only want a snack. Honey wants a snack. Io sono allergico. I am allergic. I am allergic. Lei è in pericolo. She is in danger. She is in danger. She is in danger. She is in danger. Ho perso il biglietto. I've lost my ticket. I've lost my ticket. I've lost my ticket. Sembra strano. That looks odd. That looks odd. That looks odd. That looks odd. sono giapponese. I am 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 giapponese. Ha detto una bugia. He told a lie. He told a lie. Fai buon viaggio. Ho un piano. Sto imparando a suonare il pianoforte. Sto imparando a suonare il pianoforte. Sto imparando a suonare il pianoforte. Non ho passato l'esame. Sono in città. Sto imparando a suonare il pianoforte. Come dovrei rispondere? Quanto dura il viaggio? Vorrei fare una telefonata. Ho una gomma a terra. E' a nord di qui. Va bene. Siamo stati a scuola insieme. Amo la poesia. Non bere e guidare. Ti insegnerò. Spiacente, è stata colpa mia. Sorry, it was my fault. 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 Me lo ricordo. È occupato questo posto. Is this seat taken? Is this seat taken? Is this seat taken? Is this seat taken? Ha un aspetto magnifico. Ho bisogno di annullare l'appuntamento. 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 È stata una decisione sensata. That was a sensible decision. 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 Sto facendo un master in diritto. I'm doing a master's in law. I'm doing a master's in law. I'm doing a master's in law. Me ne pento. I regret that. I regret that. I regret that. È stata una conversazione costruttiva. Domani è martedì. Non sono mai andato all'università. Abbiamo apprezzato il nostro soggiorno. Buona giornata. Buona giornata. Lei è una esperta. She is an expert. Lavoro da casa. Devo andare all'ufficio postale. Devo andare all'ufficio postale. Devo andare all'ufficio postale. Da quanto vivi qui? Perché sei triste? Qual è il punteggio? D'agli una possibilità. Quanto dovrò aspettare? Esprimi un desiderio. Vorrei comprare qualcosa. Ci risentiamo presto. Tu sei molto premuroso. Hai ragione. Sono pieno. Ne vuoi ancora? Suo figlio? Arriverà breve. Chi sta chiamando? Mi piacerebbe andare al negozio. Io vorrei andare all'ufficio. Anche tuo marito viene da... E' lontano? E' lontano? Era delizioso. Era delizioso. Ci siamo separati di recente. Ho bisogno di connettermi alla rete. 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 Sono un medico. Vorrei rimanere. Ho bisogno di connettermi alla rete. Ho bisogno di connettermi alla rete. Oggi nevicherà. Qual è il problema? Per favore, rallenta. Il computer è rotto. Sono ingrassato. Quali sono i loro nomi? E' bello vederti. Mi fa male lo stomaco. Guidava troppo veloce. Dove sei? Capitolo uno. Parte E. E' ok? Is that ok? Is that ok? Is that ok? Is that ok? Questo è il mio ragazzo. Come lo pronunci? Come lo pronunci? Sonoữ un' sorry. Come lo pronunci? Cosa vorresti per colazione? Cosa vorresti per colazione? Mi puoi aiutare? Ci siamo lasciati di comune accordo. Non ci vado. Buona idea. Buona idea. Lavoriamo insieme. We work together. We work together. We work together. Ha una mente acuta. She has a sharp mind. She has a sharp mind. She has a sharp mind. Ti chiamerò. I'll call you. I'll call you. I'll call you. Il mare è abbastanza calmo. The sea is quite calm. The sea is quite calm. The sea is quite calm. Sono sposato. I am married. I am married. I am married. I am married. La soluzione era semplice. Sono allergico al pesce. Dove alloggerai? Yeah. Where will you be staying. Where will you be staying? Were will you be staying? Al freddo. I'm cold. I'm cold. I'm cold. Buttalo via. Throw it away. Throw it away. Throw it away. Throw it away. Io lavoro per il consiglio. I work for the council. I work for the council. Andiamo in sala da pranzo. Let us go into the dining room. Per favore, lasciami passare. Stai andando nella direzione sbagliata. È molto motivato. Qual è il punto? È troppo costoso. Sono molto eccitato. A che ora inizia il film? Ovviamente. Sei mai stato qui prima d'ora? Sono un gran lavoratore. Odio il calcio. Mi piacerebbe andare a fare shopping. Dove sei andato all'università? Non ho ancora deciso. Potrebbe essere peggio. Sono andato a scuola. Sembra vecchio. Sembra vecchio. Aumenta la pressione. Aumenta la pressione. Increase the pressure. Increase the pressure. Increase the pressure. Cambiamo argomento. Cambiamo argomento. Let us change the subject. 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 Sto solo guardando. I am just looking. Ha bisogno di batterie? E' troppo. E' troppo. E' troppo. Sto uscendo. E' troppo. E' troppo. out. I'm going out. I'm going out. Ho bisogno di aiuto. I need some help. I need some help. Lo hai mai fatto prima? Have you done this before? Prendo un bicchier d'acqua, per favore. I'll have a glass of water, please. I'll have a glass of water, please. I'll have a glass of water, please. What has happened? What has happened? What has happened? Ha un atteggiamento negativo. He has a bad attitude. He has a bad attitude. Sono appena arrivato. I've only just arrived. I've only just arrived. I've only just arrived. Che cosa stai cercando? What are you looking for? What are you looking for? What are you beautiful? You are beautiful. You are beautiful. You are beautiful. Sto cercando questo indirizzo. I'm looking for this address. I'm looking for this address. vorrei usare internet. I'd like to use the internet. I'd like to use the internet. Accetti. Do you accept? 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 Mio padre è stato lì. Mio padre è stato lì. Mio padre è stato lì. Avrà una spiegazione logica? È il tuo turno. È il tuo turno. È il tuo turno. Chi è quello? Ora o più tardi? Sono direttore di un supermercato. Sono un supermercato. Sono un supermercato. Prego, entra. No, grazie. No, thank you. No, thank you. No, thank you. Sono disoccupato. I'm unemployed. I'm unemployed. I'm unemployed. I'm unemployed. Sto cercando di trovare un lavoro. I am trying to find work. I am trying to find work. I'm trying to find work. Fai silenzio. Be quiet. Be quiet. Be quiet. Be quiet. Mi piace guardare la tv. I like to watch 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 tv. Fammi controllare. Let me check. Let me check. Let me check. Let me check. Non è vero. That's not true. Non è abbastanza vicino. It's not quite close. It's not quite close. It's not quite close. It's not quite close. Mi innamoro facilmente. Ho bisogno di andare a casa. Ho bisogno di un visto? Do I need a visa? 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 Sono arrivati ieri. Penso che... Penso che... Penso che... I think that's... Il giorno precedente. Il giorno precedente. The previous day. The previous day. Puoi mostrarmi? Can you show me? Can you show me? Can you show me? Com'è il tempo? Com'è il tempo? How is the weather? How is the weather? How is the weather? How is the weather? Ci sono stato. I've been there. I've been there. Avrei voluto avere. I wish I had. I wish I had. I wish I had. Sono felice di sentirlo. I am glad to hear it. 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 Questo è mio marito. This is my husband. This is my husband. This is my husband. This is my husband. È una pazzia. That is crazy. That is crazy. Ho bisogno di un appuntamento. Non sto lavorando in questo momento. Ho bisogno di un appuntamento. I'm not working at the moment. 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 Does it make sense? Does it make sense? Ce l'ho quasi fatta. Siamo pensionati. Non mi interessa il calcio. Più di quello. Sono pazzo di te. I'm crazy about you. Sono pieno di energia. Per favore, sbrigati. Sono molto curioso. È aggressivo. Funziona? Un po'. La colazione è pronta. Breakfast is ready. Breakfast is ready. Breakfast is ready. Breakfast is ready. Questa è mia moglie. This is my wife. This is my wife. This is my wife. Sono preoccupato anche io. I'm worried too. I'm worried too. I'm worried too. I'm worried too. Capitolo uno. Capitolo bonus. Quanti anni ha? 5 minuti fa. 5 minuti fa. 5 minuti fa. 5 minuti fa. Nel pomeriggio. 5 minuti fa. Non so. 5 minuti fa. 6 minuti fa. In the afternoon. 6 minuti. 6 minuti fa. L'ho comora. Quanti anni fa? Che cosa c'è per dessert? Non si senta intimidito. Amo i suoi occhi. Può ripetere, per favore? Può ripetere, per favore? Va bene. Non sono sposato. Dove vive? Devo studiare. Da quanto tempo è qui? È molto opportuno. Non è una gran bella giornata. Non è una gran bella giornata. Sono esausto. Cosa significa? Di dove è lei? Quanto le piacerebbe? Dopodomani. C'è un negozio qui vicino. Potrebbe dirmi l'ora, per favore? Domani mattina. Smetta di incolpare gli altri. Stop blaming others. Vogliamo andare da qualche altra parte? Spetta di incolpare gli altri. Scade domani. It expires tomorrow. Pa bambini? Do yu have any children? Ho paura per la sua incolumità. I fear for her safety. Chi sta parlando? A che ora? Giusto. Giusto. Abbiamo avuto un buon inizio. Ho 26 anni. Gli chiediamo di unirsi a noi? Il giorno seguente. Non è giusto. In bocca al lupo. Buon lupo. Buon lupo. Questo mese. Attento. Giri. Giri. Turn around. Turn around. Turn around. Turn around. Odio aspettare. Ha nevicato la notte scorsa. Può parlare più forte, per favore? Faccia con comodo. E' vero. E' vero. Io vivo a... 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 Cosa c'è per cena? Tornerò più tardi. Non abbiamo figli. Non abbiamo figli. Non abbiamo figli. Capitolo 2 Ora miglioreremo la tua pronuncia e le tue capacità di ascolto. Mentre ascolti e ripeti, concentrati su come pronunci le frasi invece che sulla loro comprensione. You are amazing. You are amazing. You are amazing. How do you know each other? How do you know each other? How do you know each other? I hope that. I hope that. I hope that. He is very sophisticated. He is very sophisticated. He is very sophisticated. He is very sophisticated. I cannot do it now. 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 I'm hungry. I'm hungry. I'm hungry. Please help me. Please help me. Please help me. Please help me. His work is exceptional. His work is exceptional. His work is exceptional. His work is exceptional. It's rained hard today. It rained hard today. It's rained hard today. It rained hard today. I'm a Christian. I'm a Christian. I'm a Christian. I'm a Christian. Can I help you? Can I help you? Can I help you? Can I help you? Don't worry about it. Don't worry about it. Don't worry about it. Don't worry about it. I want to give you a gift. I want to give you a gift. I want to give you a gift. Don't worry about it. Don't worry about it. Go for a walk Would you like to go for a walk? Would you like to go for a walk? Not so well Not so well Not so well Not so well He is creative He is creative He is creative He is creative We were roommates We were roommates We were roommates We were roommates I like him I like him I like him I like him How are you? How are you? How are you? How are you? My son studies computers My son studies computers My son studies computers My son studies computers We like it very much 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 Do you have any brothers or sisters? 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 He never gives me anything 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 I am very reliable I am very reliable I am very reliable I am very reliable We lost the game We lost the game We lost the game. We lost the game. Help. 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 I got fired. I got fired. I got fired. I got fired. I'm afraid that. I'm afraid that. I'm afraid that. I'm afraid that. Did you hear that? Did you hear that? Did you hear that? Did you hear that? What did you think? What did you think? What did you think? What did you think? Would you like a beer? 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 He is powerful. He is powerful. He is powerful. He is powerful. They have a good reputation. They have a good reputation. They have a good reputation. Is it cold outside? Is it cold outside? Is it cold outside? Is it cold outside? It's below freezing. It's below freezing. It's below freezing. It's below freezing. I am sick. I am sick. I am sick. I am sick. I've cut myself. 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 I'm sorry. We're sold out. 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 This is the first time I've been here. 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 In three weeks time. In three weeks time. In three weeks time. In three weeks time. Let us begin. Let us begin. Let us begin. Let us begin. We're late. We're late. We're late. We're late. I have three children. I have three children. I have three children. I have three children. I am fluent in English I am fluent in English I am fluent in English I'm fluent in English What would you like for dinner? What would you like for dinner? What would you like for dinner? Is it close? Does he like the school? 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 We've run out of petrol 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 Which university are you at? 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 I'd like to go for a walk I'd like to go for a walk I'd like to go for a walk I have one in my car I have one in my car I have one in my car That's her book That's her book That's her book That's her book It is a miracle 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 The food was awful The food was awful The food was awful The food was awful I do not like this I do not like this I do not like this Forget it Forget it Forget 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 It Forget It I'm going to go have dinner 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 I don't have a girlfriend 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 Do you mind if we join you? Do You Mind Mind If We Join You Do you mind if we join you? Do you mind if we join you? She is unpopular 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 Do you want me to put the TV on? Do You Want Me To Put The TV on? Do you want me to put the TV on? Do you want me to put the TV on? Nobody is helping us Nobody Is Helping Us Nobody Is Helping Us Nobody Is helping us Can you switch the light off? Can You Switch The Light Off Can You Switch The Light Off Can You Can you switch the light off? Do you fancy a pint? 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 Try it on. Try it on. Try it on. Try it on. I'm a Sikh. I'm a Sikh. I'm a Sikh. I'm a Sikh. What would you like to drink? 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 Would you like something to eat? WOULD YOU LIKE SOMETHING TO EAT ? ARE YOU WORKING TOMORROW ? Are you working tomorrow? Are you working tomorrow? They charge $26 per day. 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 He's faster than me. He's faster than me. He's faster than me. He's faster than me. It's quite a long way. 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 The business is profitable. The business is profitable. The business is profitable. The business is profitable. I am good with money. I am good with money. I am good with money. Not much or not a lot. 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 I am enthusiastic. I am enthusiastic. I am enthusiastic. I am enthusiastic. I'm enthusiastic. Have you had enough to eat? 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 Please turn off the radio. 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 I don't have time right now. Goodbye. 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 What is the time? What is the time? It is too sweet. It is too sweet It is too sweet It is too sweet I need a signature I need a signature I need a signature I need a signature I'm running a little late 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 No problem No problem No problem No problem What color is the car? What color is the car? Will you remind me? Will you remind me? Will you remind me? Will you remind me? I'm a widow I'm a widow I'm a widow I'm a widow Can I buy a ticket on the train? 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 I am not married. I am not married. I am not married. I am not married. They are rich. They are rich. They are rich. They are rich. What do you do for a living? What do you do for a living? What do you do for a living? Your opinion is valuable. Your opinion is valuable. VALUABLE Your opinion is valuable Your opinion is valuable I'd like to buy a bottle of water 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 How do you take it? 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 I'm coming to pick you up 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 What does he do for work? Capitolo 2 Parte B It is too spicy It is too spicy It is too spicy I am not a tourist 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 I read a lot I read a lot I read a lot I read a lot I study economics I study economics I study economics I feel good I feel good I feel good I feel good I speak French I speak French I speak French I speak French She's older than me She's older than me She's older than me She's older than me The weather is fine The weather is fine The weather is fine The weather is fine What is the exchange rate? 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 I'll pay I'll pay I'll pay I'll pay He's a very good student 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 That's funny That's funny That's funny That's funny I'm in a hurry I'm in a hurry I'm in a hurry I'm in a hurry How are your parents? How are your parents? How are your parents? How are your parents? I'm really sorry. I'm really sorry I'm really sorry I'm really sorry I have a lot of things to do 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 What time shall we meet? 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 See you See you See you See you I still have a lot to do 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 He is trustworthy He is trustworthy He is trustworthy He is trustworthy It was hilarious It was hilarious It was hilarious It was hilarious Where have you travelled from? 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 Not too bad, thanks. Not too bad, thanks. Not too bad, thanks. Not too bad, thanks. They did not accept me. They did not accept me. They did not accept me. It will be cold tonight. 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 The day before yesterday. The day before yesterday. I haven't finished eating. Don't forget. Don't forget. Don't forget. Don't forget. This is a tradition. This is a tradition. This is a tradition. This is a tradition. How about you? How about you? How about you? How about you? The room was silent. The room was silent. The room was silent. The room was silent. How much do you want to pay? 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 How old are they? How old are they? Do not be silly. Do not be silly. Do not be silly. Do not be silly. That way That way That way That way Where would you like to meet? 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 I love going out I love going out I love going out I'm ok, thanks I'm ok, thanks I'm ok, thanks I'm ok, thanks What did he say? What did he say? What did he say? What did he say? It was out of control 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 I'm not sure I'm not sure I'm not sure I'm not sure I need proof I need proof I need proof I need proof Lunch is ready Lunch is ready Lunch is ready Lunch is ready Please wait for me Please wait for me Please wait for me Please wait for me It's ok It's ok It's ok It's ok What time do we arrive? 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 I'm lost I'm lost I'm lost I'm lost A few months A few months A few months A few months I've seen it I've seen it I've seen it I've seen it Tell the truth 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 Where do I pay? 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 So, where should we go? Are you free tonight? Are you free tonight? Are you free tonight? Are you free tonight? What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? What is for lunch? What is for lunch? What is for lunch? What is for lunch? My application was rejected. My application was rejected. My application was rejected. Take this road. Take this road. Take this road. Take this road. We played football. We played football. We played football. Would you like to join us? 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 where's the sales office where's the sales office where's the sales office where's the sales office I want to ask you a question 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 see you there see you there see you there see you there I like you I like you I like you I like you I am an academic I am an academic I am an academic I am an academic that is upsetting that is upsetting that is upsetting that is upsetting I need to wash my hands 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 would you like something to drink would you like something to drink would you like something to drink Would you like something to drink? Why are you laughing? Why are you laughing? Why are you laughing? Why are you laughing? The food was delicious. The food was delicious. The food was delicious. The food was delicious. May I speak to please? 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 It's mine. It's mine. May I speak to please? It's mine. It's mine. Yesterday evening. Yesterday evening. Yesterday evening. Yesterday evening. Yesterday evening. May I speak to please? Where is the manual? Where is the manual? Where is the manual? I am committed. 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 I really like dancing. I really like dancing. I really like dancing. I really like dancing. Please leave me alone. Please leave me alone. Please leave me alone. Please leave me alone. You have been selected. You have been selected. You have been selected. I am taking a gap year. I am taking a gap year. I am taking a gap year. Where is the nearest petrol station? Where is the nearest petrol station? Where is the nearest petrol station? Tonight. 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 Where are your children? Where are your children? Where are your children? Where are your children? I don't think so. I don't think so. I don't think so. I don't think so. It is impossible. It is impossible. It is impossible. It is impossible. Next time. Next time. Next time. Next time. You are clever. You are clever. You are clever. You are clever. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Please sit down. No comment No comment No comment No comment I'm coming right now I'm coming right now I'm coming right now I'm coming right now How much will it cost? 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 I need another key. I need another key. I need another key. I need another key. I'll be there in five minutes. 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 I like surprises. I like... Ake surprises. I like surprises. I like surprises. What does that tell us? What... What does that tell us? What does that tell us? What does that tell us? I'm a Catholic. I'm a Catholic. Do you mind if I sit here? Do you mind if I sit here? I am studying to be a doctor. 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 Do not be wasteful. Do not be wasteful. Do not be wasteful. Do not be wasteful. Capitolo 2. Do not be wasteful. Parte C. Do you have grandchildren? Do you have grandchildren? Do you have grandchildren? Do you have grandchildren? Do not be wasteful. you speak? What languages do you speak? They haven't met her yet. They haven't met her yet. They haven't met her yet. Money does not motivate me. Money does not motivate me. Money does not motivate me. He thinks we don't want to go. He thinks we don't want to go. He is very convincing. He is very convincing. He is very convincing. He is very convincing. è molto convincente I baked this cake I baked this cake I baked this cake I baked this cake What can I do for you? 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 I refuse to I refuse to I refuse to I refuse to Is it far? Is it far? Is it far? Is it far? How old is he? How old is he? How old is he? How old is he? Are you a student? Are you a student? Are you a student? Are you a student? Have you got any kids? 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 I didn't go to university 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 I speak two languages I speak two languages I speak two languages I speak two languages I am counting on you 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 It was easy It was easy It was easy It was easy It is not far from here 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 What is the problem? What is the problem? It creates too much waste 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 what do you have what do you have what do you have what do you have could you please call me a taxi could you please call me a taxi could you please call me a taxi Could you please call me a taxi? Her clothes are very modern. 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 Where are we now? Where are we now? Where are we now? Where are we now? Just over two years. Just over two years. Just over two years. Just over two years. I am determined. I am determined. At which university do you study? At which university do you study? At which university do you study? Are you on your own? 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 I am doing a course at the moment. 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 She is so friendly. She is so friendly. She is so friendly. I'd like to go home 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 As soon as possible As soon as possible As soon as possible As soon as possible Who is to blame? Who is to blame? Who is to blame? Who is to blame? I like listening to music 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 What's a nice day What a nice day What's a nice day What's a nice day you are very kind you are very kind you are very kind you are very kind how many how many how many how many What is the objective? What is the objective? What is the objective? What is the objective? How long have you been in America? 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 I lost my job. I lost my job. I lost my job. I lost my job. You made me cry. You made me cry. You made me cry. You made me cry. Did you have a good journey? 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 I would like to eat something. 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 He studies at. He studies at. He studies at. It's far from here. It's far from here It's far from here It's far from here I'll call back later I'll call back later I'll call back later I'll call back later I agree I agree, I agree, I agree How long is it? How long is it? How long is it? How long is it? I don't like him I don't like him I don't like him I don't like him I don't like her I don't like her I don't like her I don't like her How much is it? How much is it? How much is it? How much is it? It's forecast to rain. It's forecast to rain. It's forecast to rain. It's forecast to rain. How are you paying? How are you paying? You are wasting your time. Do not be negative. Do not be negative. Do not be negative. Do not be negative. Have you finished studying? Have you finished studying? Do you fancy a quick drink? Do you fancy a quick drink? Do you fancy a quick drink? Is your house like this one? Is your house like this one? Is your house like this one? Are you seeing anyone? Are you seeing anyone? Are you seeing anyone? Are you seeing anyone? I am a dreamer? I am a dreamer. I am a dreamer. Yes, I am a dreamer. I am a dreamer. I am a dreamer. Yes, I understood. Yes, I understood. Yes, I understood. Do not be stupid. 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 I have a dreamer. Bye bye bye. yacht arms How do you show up? I've got a full-time job. He's in the kitchen. He's in the kitchen. You have my word. You have my word. The party has been cancelled. 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 I am shocked. I am shocked. Take this medicine. Take this medicine. I won't let you down. I won't let you down. I won't let you down. He turned around. He turned around. He turned around. He turned around. You have too many shoes. 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 Why did you say that? Why did you say that? Why did you say that? I feel lonely. I feel lonely. I feel lonely. I feel lonely. I have a cold. I have a cold. I have a cold. I have a cold. What sort of music do you like? 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 I disagree. I disagree. I disagree. I disagree. I am bilingual. I am bilingual. I am bilingual. I am bilingual. Here it is. Here it is. Here it is. Here it is. I work in a call center. 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 What time does the store open? 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 Who's next? Who's next? Who's next? Who's next? Are your children with you? Are your children with you? Are your children with you? Which team do you support? Which team do you support? Which team do you support? Two weeks ago. Two weeks ago. Two weeks ago. Two weeks ago. I'd like to pay my bill, please. I'd like to pay my bill, please. He's coming soon. He's coming soon. He's coming soon. He's coming soon. I lost my watch. I lost my watch. I lost my watch. I lost my watch. She is very elegant. 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 She is very patient. She is very patient. you are very patient I was in the library 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 my family was poor my family was poor my family was poor I'd like to check out 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 Thanks for a lovely evening 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 What does your father do for work? 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 I like risk 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 With a birthday Where do your parents live? 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 No, this is the first time 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 I like it I like it I like it I like it. I need to go now. 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 I'm going to America next year. 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 She cried. She cried. She cried. She cried. Do it properly. Do it properly. Do it properly. Do it properly. The train is running late. 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 That's too bad. 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 Be careful. Be careful. Be careful. This is very difficult. This is very difficult. This is very difficult. What is the address? What is the address? What is the address? What is the address? Last week. Last week. Last week. I usually drink coffee. I usually drink coffee. I usually drink coffee. I usually drink coffee Try to pronounce it Try to pronounce it Try to pronounce it Try to pronounce it You are dressed too formal 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 Can I drive you home? 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 I work in IT I work in IT I work in IT I work in IT I've been very busy I've been very busy I've been very busy I've been very busy In ten years time In ten years time In ten years time In ten years time It is extremely hot It is extremely hot It is extremely hot Where do you work? Where do you work? Where do you work? I have so much debt 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 I am nearly finished I am nearly finished I am nearly finished I'm nearly finished I would like I would like I would like I would like May I buy you a drink? 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 I only want a snack. 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 I am allergic I am allergic I am allergic I am allergic She is in danger She is in danger She is in danger She is in danger I've lost my ticket I've lost my ticket I've lost my ticket I've lost my ticket That looks odd That looks odd That looks odd That looks odd I am Japanese I am Japanese I am Japanese I am Japanese He told a lie He told a lie He told a lie He told a lie Have a good journey I have a plan I have a plan I have a plan. I have a plan. I'm learning to play the piano. 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 Is this your book? Is this your book? Is this your book? Is this your book? Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. I failed the exam. I failed the exam. I failed the exam. I failed the exam. I'm in town. I'm in town. I'm in town. I'm in town. How should I respond? How should I respond? How should I respond? How should I respond? How long does the journey take? 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 I'd like to make a phone call. 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 I've got a flat tyre. I've got a flat tyre. I've got a flat tyre. It's north of here. It's north of here. It's north of here. It's north of here. That's all right. That's all right. That's all right. That's all right. We were at school together. We were at school together. We were at school together. I love poetry. I love poetry. I love poetry. I love poetry. Don't drink and drive. Don't drink and drive. I'll teach you. I'll teach you. I'll teach you. Sorry it was my fault. Sorry it was my fault. Sorry it was my fault. I remember. I remember. I remember. Is this seat taken? Is this seat taken? Is this seat taken? Is this seat taken? That looks great. That looks great. That looks great. That looks great. I need to cancel the appointment. I need to cancel the appointment. I need to cancel the appointment. That was a sensible decision. That was a sensible decision. That was a sensible decision. I'm doing a masters in law. I'm doing a masters in law. I'm doing a masters in law. I regret that. I regret that. I regret that. I regret that. It was a constructive conversation. It was a constructive conversation. It was a constructive conversation. Tomorrow is Tuesday. 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 I never went to university. I never went to university. I never went to university. We've enjoyed our stay. We've enjoyed our stay. We've enjoyed our stay. We've enjoyed our stay. Good day. Good day. Good day. Good day. Good day. She is an expert. She is an expert. She is an expert. She is an expert I work from home I work from home I work from home I work from home I have to go to the post office 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 How long have you lived here? How long have you lived here? How long have you lived here? Why are you sad? Why are you sad? Why are you sad? Why are you sad? What is the score? What is the score? What is the score? What is the score? Give it a try. Give it a try. Give it a try. Give it a try. How long will I have to wait? 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 Make a wish Make a wish Make a wish Make a wish I would like to buy something 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 We will talk soon. We will talk soon. We will talk soon. You are very thoughtful. You are very thoughtful. You are very thoughtful. He's right. I'm full. I'm full. I'm full. I'm full. Would you like some more? 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 His son. His son. His son. His son. It will arrive shortly It will arrive shortly It will arrive shortly It will arrive shortly Who's calling? Who's calling? Who's calling? Who's calling? I'd like to go to the store 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 Is your husband also from 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 is it far is it far is it far is it far that was delicious that was delicious that was delicious we recently separated we recently separated we recently separated we recently separated I need to get online 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 I'm a doctor I'm a doctor I'm a doctor I would like to stay I would like to stay I would like to stay it's going to snow today 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 It's going to snow today. What is the matter? What is the matter? What is the matter? What is the matter? Please slow down. Please slow down. Please slow down. Please slow down. The computer is broken. The computer is broken. The computer is broken. The computer is broken. I gained in weight. I gained in weight. I gained in weight. I gained in weight. What are their names? What are their names? What are their names? What are their names? Good to see you. Good to see you. Good to see you. Good to see you. My stomach hurts. My stomach hurts. My stomach hurts. My stomach hurts. He drove too fast. He drove too fast. He drove too fast. He drove too fast. Where are you? Where are you? Where are you? Capitolo 2. Parte E. Is that ok? Is that ok? Is that ok? Is that ok? This is my boyfriend. This is my boyfriend. This is my boyfriend. This is my boyfriend. How do you pronounce that? How do you pronounce that? How do you pronounce that? What would you like for breakfast? 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 Can you help me? Can you help me? Can you help me? Can you help me? It was a mutual breakup. It was a mutual breakup. It was a mutual breakup. I'm not going. 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 Good idea. We work together. Together, we work together, we work together. She has a sharp mind. 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 I'll call you. I'll call you. I'll call you. I'll call you. The sea is quite calm. The sea is quite calm. The sea is quite calm. I am married. I am married. I am married. I am married. The solution was simple. The solution was simple. The solution was simple. The solution was simple. I'm allergic to seafood I'm allergic to seafood I'm allergic to seafood I'm allergic to seafood Where will you be staying? Where will you be staying? Where will you be staying? I'm cold I'm cold I'm cold I'm cold Throw it away Throw it away Throw it away Throw it away I work for the council 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 Let us go into the dining room 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 Please let me through Please let me through Please let me through Please let me through You're going the wrong way 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 He is very dedicated He is very dedicated. What is the point? What is the point? That's too expensive. That's too expensive. That's too expensive. I am very excited. I am very excited. I am very excited. I'm very excited. What time does the movie start? What time does the movie start? What time does the movie start? what time does the movie start of course of course of course of course have you been here before 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 I am very hard-working I am very hard-working I am very hard-working I hate football I hate football I hate football I hate football I'd like to go shopping 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 where did you go to university where did you go to university where did you go to university Where did you go? To university. I still haven't decided. I still haven't decided. I still haven't decided. I still haven't decided. It could be worse. It could be worse. It could be worse. It could be worse. I went to school in... 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 That looks old. That looks old. That looks old. That looks old. Increase the pressure. Increase the pressure. Increase the pressure. Increase the pressure. Let us change the subject. 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 I am just looking. I am just looking. I am just looking. Does it need batteries? Does it need batteries? Does it need batteries? Does it need batteries? That's too much. 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 I'm going out I'm going out I'm going out I'm going out I need some help I need some help I need some help I need some help Have you done this before? 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 I'll have a glass of water, please. I'll have a glass of water, please. I'll have a glass of water please I'll have a glass of water please What has happened? What has happened? What has happened? What has happened? He has a bad attitude 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 I've only just arrived I've only just arrived I've only just arrived I've only just arrived What are you looking for? 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 You are beautiful You are beautiful You are beautiful You are beautiful I'm looking for this address 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 I'd like to use the internet 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 Do you accept? 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 What are you suggestions? Do you? Do you accept? Do you accept? Do you accept? Do youorence the pain? It needs a logical explanation It needs a logical explanation It needs a logical explanation It is your turn It is your turn It is your turn. It is your turn. Who is that? Who is that? Who is that? Who is that? Now or later? Now or later? Now or later? Now or later? I'm a supermarket manager. I'm a supermarket manager. I'm a supermarket manager. I'm a supermarket manager. Please come in. Please come in. Please come in. Please come in. No thank you. No thank you. No thank you. No thank you. I'm unemployed. I'm unemployed. I am trying to find work. I am trying to find work. I'm trying to find work. Be quiet. Be quiet. Be quiet. Be quiet. Be quiet. Be quiet. You are taking work. Be quiet. Be quiet. Be quiet. quite close it's not quite close it's not quite close I fall in love easily 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 I need to go home. 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 Do I need a visa? 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 They arrived yesterday. They arrived yesterday. They arrived yesterday. They arrived yesterday. I think that. I think that. I think that. I think that. The previous day. The previous day. The previous day. The previous day. Can you show me? Can you show me? Can you show me? Can you show me? How is the weather? How is the weather? How is the weather? How is the weather? I've been there. I've been there. I've been there. I've been there. I wish I had. I wish I had. I wish I had. I wish I had. I am glad to hear it This is my husband This is my husband this is my husband this is my husband that is crazy that is crazy that is crazy that is crazy I need an appointment I need an appointment I need an appointment I need an appointment I'm not working at the moment 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 does it make sense? Does it make sense? Does it make sense? Does it make sense? I need to change clothes. I need to change clothes. I need to change clothes I need to change clothes I'm looking for work I'm looking for work I'm looking for work I'm looking for work I nearly made it I nearly made it I nearly made it I nearly made it We are retired We are retired We are retired We are retired I'm not interested in football 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 More than that More than that More than that More than that I'm crazy about you I'm crazy about you I'm crazy about you I'm crazy about you I am full of energy 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 Please hurry Please hurry Please hurry Please hurry I am very curious I am very curious I am very curious I am very curious He is aggressive He is aggressive He is aggressive He is aggressive Does it work? Does it work? Does it work? Does it work? A little A little A little A little Breakfast is ready I am really curious This is my wife. This is my wife. I'm worried too. I'm worried too. I'm worried too. I'm worried too. Capitolo 2 Capitolo bonus How old are you? How old are you? How old are you? How old are you? Five minutes ago. Five minutes ago. Five minutes ago. Five minutes ago. In the afternoon. In the afternoon. In the afternoon. In the afternoon. Do you have anything else? 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 What is for dessert? What is for dessert? What is for dessert? What is for dessert? Do not feel intimidated. Do not feel intimidated. Do not feel intimidated. Do not feel intimidated. I love your eyes. I love your eyes. I love your eyes. Can you repeat that please? 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 That's fine. That's fine. That's fine. That's fine. I'm not married. I'm not married. I'm not married. I'm not married. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Where do you live? I need to study. I need to study. D I need to study. I need to study. How long have you been here? 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 It is very convenient. It's not a very nice day. It's not a very nice day. It's not a very nice day. I'm exhausted. I'm exhausted. I'm exhausted. I'm exhausted. What does this mean? What does this mean? What does this mean? What does this mean? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? How much would you like? 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 The day after tomorrow. The day after tomorrow. The day after tomorrow. The day after tomorrow. Is there a store near here? 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 Could you tell me the time, please? Could you tell me the time, please? Tomorrow morning. Tomorrow morning. Stop blaming others. Stop blaming others. Shall we go somewhere else? Shall we go somewhere else? Shall we go somewhere else? It expires tomorrow. It expires tomorrow. It expires tomorrow. Do you have any children? 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 I fear for her safety. I fear for her safety. I fear for her safety. Who is speaking? Who is speaking? Who is speaking? Who is speaking? At what time? At what time? At what time? That's what time? That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. We had a good start. 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 I'm twenty-six years old. I'm twenty-six years old. I'm twenty-six years old. I'm twenty-six years old. Shall we ask him to join us? Shall we ask him to join us? The following day. 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 That's not right. 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 Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. This month, this month, this month, this month. Watch out, watch out, watch out, watch out. Turn around, turn around, turn around, turn around. I hate waiting, I hate waiting, I hate waiting. It snowed last night, it snowed last night, it snowed last night, it snowed last night. Can you speak louder please? Can you speak louder please? Can you speak louder please? Take your time. Take your time. Take your time. Take your time. That's true. That's true. That's true. That's true. I live in. I live in. I live in. I live in. What is for dinner? What is for dinner? What is for dinner? What is for dinner? I'll come back later. I'll come back later. I'll come back later. I'll come back later. We do not have any children. 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 I'll come back later. I'll come back later. Lui è molto sofisticato. Non posso farlo ora. I cannot do it now. Ho fame. I'm hungry. I'm hungry. Aiutami, per favore. Please help me. Il suo lavoro è eccezionale. Ha piovuto molto oggi. It's rained hard today. It's rained hard today. Sono un cristiano. Posso aiutarti? Non ti preoccupare. Voglio farti un regalo. Lo spero. Lo spero. Lui è un idealista. Lui è un idealista. Ti va di andare a fare una passeggiata? Would you like to go for a walk? Would you like to go for a walk? Non molto bene. Lui è creativo. Lui è creativo. Siamo stati compagni di stanza. Mi piace lui. Mi piace lui. Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? Mio figlio. Mio figlio studia informatica. Mi soffermo studia computer. Mi soffermo studia computer. Mi soffermo studia computer. Ci piace molto. Hai fratelli o sorelle? Non mi dà mai nulla. Non mi dà mai nulla. Sono molto affidabile. Sono molto affidabile. Abbiamo perso la partita. Abbiamo perso la partita. Abbiamo perso la partita. Aiuto. Aiuto. Sono stato licenziato. Ho paura che... L'hai sentito? Did you hear that? Did you hear that? Che cosa hai pensato? What did you think? What did you think? Vuoi una birra? Would you like a beer? Would you like a beer? Lui è potente. He is powerful. He is powerful. Hanno una buona reputazione. They have a good reputation. They have a good reputation. Fa freddo fuori. Is it cold outside? Is it cold outside? È sotto zero. It's below freezing. It's below freezing. Sono malato. I am sick. I am sick. Mi sono tagliato. Mi sono tagliato. I have cut myself. I have cut myself. Mi dispiace. Siamo al completo. I'm sorry. We're sold out. I'm sorry. We're sold out. Questa è la prima volta che sono qui. This is the first time I've been here. This is the first time I've been here. In tre settimane. In three weeks time. In three weeks time. Cominciamo. Let us begin. Let us begin. Siamo in ritardo. We're late. We're late. Io ho tre bambini. I have three children. Parlo inglese fluentemente. I am fluent in English. I am fluent in English. I am fluent in English. Cosa vorresti per cena? What would you like for dinner? What would you like for dinner? È vicino? Is it close? Is it close? Gli piace la scuola? Does he like the school? Does he like the school? Abbiamo finito la benzina. We've run out of petrol. We've run out of petrol. In quale università sei? In quale università sei? Which university are you at? Which university are you at? Mi piacerebbe andare a fare una passeggiata. I'd like to go for a walk. I'd like to go for a walk. Ne ho uno in auto. I have one in my car. I have one in my car. Questo è il suo libro. That's her book. È un miracolo. È un miracolo. Il cibo era pessimo. Il cibo era pessimo. Il cibo era pessimo. Non mi piace questo. Non mi piace questo. Non mi piace questo. Dimenticatene. Dimenticatene. Forget it. Forget it. Ho intenzione di andare a cena. I'm going to go have dinner. I'm going to go have dinner. Non ho una fidanzata. Non ho una fidanzata. Non ho una fidanzata. Vi dispiace se ci uniamo a voi? Do you mind if we join you? Do you mind if we join you? Lei è impopolare. She is unpopular. She is unpopular. Vuoi che accenda il televisore? Do you want me to put the TV on? Do you want me to put the TV on? No. Nessuno ci sta aiutando. Nobody is helping us. Nobody is helping us. Puoi spegnere la luce? Can you switch the light off? Can you switch the light off? Hai voglia di una pinta di birra? Do you fancy a pint? Do you fancy a pint? Provalo. Try it on. Try it on. Sono un Sikh. Sono un Sikh. I'm a Sikh. I'm a Sikh. Cosa ti va da bere? What would you like to drink? What would you like to drink? Vuoi qualcosa da mangiare? Would you like something to eat? Would you like something to eat? Lavori domani. Are you working tomorrow? Are you working tomorrow? Fanno pagare 26 dollari al giorno. È più veloce di me. È più veloce di me. È un cammino piuttosto lungo. È più veloce di me. È più veloce di me. È più veloce di me. Il business è redditizio. Il business è profitabile. Il business è profitabile. Sono bravo con i soldi. Sono bene. Io sono bene con i soldi. Sono bene con i soldi. Non molto o non molto. Sono più Bailey. Non molto o no molto. Sono entusiasta. Hai mangiato abbastanza? Per favore spegni la radio Non ho tempo adesso Addio Che ora è? È troppo dolce Ho bisogno di una firma Sono un po' in ritardo Nessun problema No problem Di che colore è quella macchina? Ti ricorderai di me? Io sono vedova Posso acquistare un biglietto sul treno? Non sono sposato Sono ricchi Cosa fai nella vita? What do you do for a living? La tua opinione è preziosa Your opinion is valuable Your opinion is valuable Vorrei comprare una bottiglia d'acqua I'd like to buy a bottle of water I'd like to buy a bottle of water Come si prende? Sto venendo a prenderti I'm coming to pick you up Che lavoro fa? Capitolo 3 Parte B È troppo piccante Non sono un turista Non sono un turista Ho letto molto I read a lot Studio economia I study economics Mi sento bene I feel good Parlo francese I speak french È più grande di me She's older than me She's older than me Il tempo è bello The weather is fine The weather is fine Qual è il tasso di cambio? What is the exchange rate? What is the exchange rate? Pago I'll pay I'll pay È un ottimo studente He's a very good student He's a very good student È divertente Sono di fretta I'm in a hurry Come stanno i tuoi genitori? Sono davvero dispiaciuto I'm really sorry Ho un sacco di cose da fare I have a lot of things to do A che ora dovremmo incontrarci? What time shall we meet? What time shall we meet? Ci vediamo See you See you Ho ancora molto da fare I still have a lot to do I still have a lot to do È degno di fiducia He is trustworthy È stato divertente È stato divertente It was hilarious It was hilarious Da dove arrivi? Where have you traveled from? Where have you traveled from? Non male Grazie Not too bad Thanks Not too bad Thanks Loro non mi hanno accolto They did not accept me Farà freddo stasera It will be cold tonight It will be cold tonight L'altro ieri The day before yesterday The day before yesterday Non ho finito di mangiare I haven't finished eating I haven't finished eating Non ti dimenticare Don't forget Don't forget Questa è una tradizione This is a tradition E tu? How about you? How about you? La stanza era silenziosa The room was silent The room was silent Quanto vuoi pagare? How much do you want to pay? How much do you want to pay? Quanti anni hanno? How old are they? How old are they? Non essere sciocco Do not be silly Do not be silly In quel modo That way That way Dove vorresti che ci incontrassimo? Where would you like to meet? Where would you like to meet? Il suo sguardo può essere molto intenso His look can be very intense His look can be very intense Mi piace uscire I love going out I love going out Sto bene Grazie I'm okay Thanks I'm okay Thanks Cosa ha detto? What did he say? What did he say? Era fuori controllo It was out of control It was out of control Non ne sono sicuro I'm not sure I'm not sure Ho bisogno di prove I need proof I need proof Il pranzo è pronto Lunch is ready Lunch is ready Per favore Aspettami Please wait for me Please wait for me Va bene It's okay It's okay A che ora arriviamo? What time do we arrive? What time do we arrive? Mi sono perso I'm lost I'm lost Pochi mesi A few months A few months L'ho visto I've seen it I've seen it Di la verità Tell the truth Tell the truth Dove devo pagare? Where do I pay? Where do I pay? Dove dovremmo andare? Where should we go? Where should we go? Sei libero stasera? Are you free tonight? Are you free tonight? Cosa fai? What do you do? What do you do? Che c'è per pranzo? What is for lunch? What is for lunch? La mia domanda è stata respinta My application was rejected My application was rejected Prendi questa strada Take this road Take this road Take this road Abbiamo giocato a calcio We played football We played football Vorresti unirti a noi? Would you like to join us? Would you like to join us? Dov'è l'ufficio vendite? Where's the sales office? Voglio farti una domanda I want to ask you a question I want to ask you a question Ci vediamo lì See you there See you there Mi piaci I like you I like you Sono un docente universitario I am an academic I am an academic Questo è sconvolgente That is upsetting That is upsetting Ho bisogno di lavarmi le mani I need to wash my hands I need to wash my hands Vuoi qualcosa da bere? Would you like something to drink? Would you like something to drink? Perché stai ridendo? Why are you laughing? Why are you laughing? Il cibo era delizioso The food was delicious The food was delicious Posso parlare con Per favore? May I speak to Please May I speak to Please È mio It's mine It's mine Ieri sera Yesterday evening Yesterday evening Dov'è il manuale? Where is the manual? Where is the manual? Sono impegnato I am committed Mi piace molto ballare I really like dancing I really like dancing Per favore Lasciami in pace Please leave me alone Please leave me alone Sei stato selezionato You have been selected You have been selected Sto prendendo un anno sabbatico I am taking a gap year Dov'è la stazione di servizio Più vicina? Where is the nearest petrol station? Where is the nearest petrol station? Stasera Dov'è sono i tuoi bambini? Dov'è sono i tuoi bambini? Where are your children? Where are your children? Non penso proprio I don't think so I don't think so È impossibile It is impossible It is impossible La prossima volta Next time Next time Sei intelligente You are clever You are clever Mi dispiace I'm sorry I'm sorry Per favore Siediti Please sit down Please sit down Nessun comment No comment No comment Arrivo subito I'm coming right now I'm coming right now Quanto costerà? How much will it cost? How much will it cost? Ho bisogno di un'altra chiave I need another key I need another key Sarò lì tra cinque minuti I'll be there in five minutes I'll be there in five minutes Mi piacciono le sorprese I like surprises I like surprises Che cosa ci dice questo? What does that tell us? What does that tell us? Sono un cattolico I'm a catholic I'm a catholic Ti dispiace se mi siedo qui? Do you mind if I sit here? Do you mind if I sit here? Sto studiando per diventare medico I am studying to be a doctor Non fare lo sprecone Non fare lo sprecone Do not be wasteful State tutti bene? Capitolo 3 Parte C Hai nipoti? La decisione è definitiva Che lingue parli? Che lingue parli? They haven't met her yet They haven't met her yet Il denaro non mi motiva Money does not motivate me Pensa che non vogliamo andare Pensa che non vogliamo andare Ho preparato questa torta I baked this cake I baked this cake Cosa posso fare per te? What can I do for you? What can I do for you? Mi rifiuto di I refuse to E' lontano? Quanti anni ha? Sei uno studente? Sei un studente? Hai figli? Hai alcuni figli? Non sono andato all'università. Non andavo all'università. Non andavo all'università. Parlo due lingue. Conto su di te. È stato facile. Non è lontano da qui. Non è lontano da qui. Qual è il problema? Qual è il problema? Qual è il problema? Esso crea troppi rifiuti. It creates too much waste. It creates too much waste. Cos'hai? Puoi chiamarmi un taxi per favore? I suoi vestiti sono molto moderni. Her clothes are very modern. Her clothes are very modern. Dove siamo adesso? Poco più di due anni. Poco più di due anni. Sono determinato. Sono determinato. I am determined. I am determined. In quale università studi? Sei da solo? Sei da solo? Sto facendo un corso in questo momento. Sto facendo un corso in questo momento. Sto facendo un corso in questo momento. Lei è così socievole. She is so friendly. She is so friendly. Vorrei andare a casa. I'd like to go home. I'd like to go home. Il prima possibile. As soon as possible. As soon as possible. Di chi è la colpa? Who is to blame? Who is to blame? Mi piace ascoltare musica. I like listening to music. I like listening to music. Che bella giornata. What's a nice day? What's a nice day? Sei molto gentile. You are very kind. You are very kind. Quanti? How many? How many? Qual'è l'obiettivo? What is the objective? What is the objective? Quanto tempo sei rimasto in America? How long have you been in America? How long have you been in America? Ho perso il lavoro. I lost my job. I lost my job. Mi hai fatto piangere. You made me cry. You made me cry. Hai fatto buon viaggio? Did you have a good journey? Did you have a good journey? Vorrei mangiare qualcosa. I would like to eat something. I would like to eat something. Studia presso. He studies at. He studies at. È lontano da qui. Richiamerò più tardi. I'll call back later. I'll call back later. Sono d'accordo. I agree. I agree. Quanto dura? How long is it? How long is it? Lui non mi piace. I don't like him. I don't like him. Lei non mi piace. I don't like her. I don't like her. Quanto costa? How much is it? How much is it? Si prevede pioggia. It's forecast to rain. It's forecast to rain. Come paghi? How are you paying? How are you paying? Stai perdendo il tuo tempo. You are wasting your time. You are wasting your time. Non essere negativo. Do not be negative. Do not be negative. Hai finito di studiare? Have you finished studying? Have you finished studying? Hai voglia di un drink veloce? Do you fancy a quick drink? Do you fancy a quick drink? La tua casa è come questa. Is your house like this one? Is your house like this one? Stai vedendo qualcuno? Sì, ho capito. Sì, ho capito. Sì, ho capito. Non essere stupida. Do not be stupid. Do not be stupid. Come può essere? How can that be? How can that be? Lavoro lì da cinque anni. I've worked there for five years. I've worked there for five years. Domani sera. Tomorrow night. Tomorrow night. Ho un lavoro a tempo pieno. I've got a full-time job. I've got a full-time job. Lui è in cucina. He's in the kitchen. He's in the kitchen. Hai la mia parola. La festa è stata annullata. La festa è stata annullata. The party has been cancelled. The party has been cancelled. Sono scioccato. Prendi questa medicina. Prendi questa medicina. Non ti deluderò. I won't let you down. I won't let you down. Si voltò. He turned around. He turned around. Hai troppe scarpe. You have too many shoes. You have too many shoes. Perché hai detto ciò? Mi sento solo Ho il raffreddore Che tipo di musica ti piace? What sort of music do you like? Non sono d'accordo I disagree Sono bilingue Ecco qui Lavoro in un call center A che ora apre il negozio? Chi è il prossimo? Chi è il prossimo? I tuoi figli sono con te? Are your children with you? Are your children with you? Quale squadra tifi? Which team do you support? Which team do you support? Due settimane fa Vorrei pagare il conto, per favore I'd like to pay my bill, please Sta arrivando Sta arrivando He's coming soon Ho perso il mio orologio I lost my watch I lost my watch Lei è molto elegante She is very elegant Tu sei molto paziente Tu sei molto paziente Ero in biblioteca 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 Vorrei fare check-out. Grazie per la bella serata. Che lavoro fa tuo padre? What does your father do for work? Mi piace il rischio. I like risk. No, sono ateo. No, I'm an atheist. No, I'm an atheist. Capitolo 3. Parte D. Dove vivono i tuoi genitori? Where do your parents live? Where do your parents live? No, questa è la prima volta. No, this is the first time. No, this is the first time. Mi piace. Mi piace. I like it. I like it. Devo andare ora. Andrò in America l'anno prossimo. No, I'm going to America next year. I'm going to America next year. Lei pianse. She cried. She cried. Fallo bene. Do it properly. Do it properly. Il treno è in ritardo. Il treno è in ritardo. Il treno è in ritardo. Che peccato. That's too bad. That's too bad. Come lo scrivi? How do you spell it? How do you spell it? Stai attento. Be careful. Be careful. Questo è molto difficile. Qual è l'indirizzo? Qual è l'indirizzo? Qual è l'indirizzo? La settimana scorsa. Last week. Last week. Io di solito bevo caffè. I usually drink coffee. I usually drink coffee. Prova a pronunciarlo. Try to pronounce it. Try to pronounce it. Sei vestito in modo troppo formale. You are dressed too formal. You are dressed too formal. Posso accompagnarti a casa in macchina? Can I drive you home? Can I drive you home? Lavoro nel settore IT. Lavoro nel settore IT. I work in IT. I work in IT. Sono stato molto occupato. I've been very busy. I've been very busy. In 10 years' time. In 10 years' time. In 10 years' time. Fa estremamente caldo. Dove lavori? Dove lavori? Where do you work? Ho così tanti debiti. I have so much debt. I have so much debt. Ho quasi finito. I am nearly finished. Mi piacerebbe. Mi piacerebbe. I would like. I would like. Posso offrirti da bere? Voglio solo uno spuntino. Voglio solo uno spuntino. I am allergic. I am allergic. Lei è in pericolo. She is in danger. She is in danger. Ho perso il biglietto. I've lost my ticket. I've lost my ticket. Sembra strano. That looks odd. That looks odd. Sono giapponese. I am Japanese. Ha detto una bugia. He told a lie. He told a lie. Fai buon viaggio. Have a good journey. Have a good journey. Ho un piano. I have a plan. I have a plan. Sto imparando a suonare il piano forte. I'm learning to play the piano. I'm learning to play the piano. E' questo il tuo libro? Is this your book? Is this your book? Buongiorno. Good morning. Good morning. Non ho passato l'esame. Come dovrei rispondere? Come dovrei rispondere? Quanto dura il viaggio? How long does the journey take? How long does the journey take? Vorrei fare una telefonata. I'd like to make a phone call. I'd like to make a phone call. Ho una gomma a terra. I've got a flat tire. I've got a flat tire. E' a nord di qui. It's north of here. It's north of here. Va bene. That's all right. That's all right. Siamo stati a scuola insieme. We were at school together. We were at school together. Amo la poesia. I love poetry. I love poetry. Non bere e guidare. Don't drink and drive. Don't drink and drive. Ti insegnerò. I'll teach you. I'll teach you. Spiacente. E' stata colpa mia. Sorry, it was my fault. Sorry, it was my fault. Me lo ricordo. I remember. I remember. E' occupato questo posto. Is this seat taken? Is this seat taken? Ha un aspetto magnifico. Ha un aspetto magnifico. That looks great. That looks great. Ho bisogno di annullare l'appuntamento. E' stata una decisione sensata. I need to cancel the appointment. I need to cancel the appointment. E' stata una decisione sensata. Sto facendo un master in diritto. Sto facendo un master in diritto. E' stato un master in diritto. E' stata una conversazione costruttiva. Me ne pento. Domani è martedì. Tomorrow is Tuesday. Non sono mai andato all'università. I never went to university. I never went to university. Abbiamo apprezzato il nostro soggiorno. We've enjoyed our stay. We've enjoyed our stay. Buona giornata. Good day. Good day. Lei è una esperta. Lavoro da casa. I work from home. Devo andare all'ufficio postale. I have to go to the post office. I have to go to the post office. Da quanto vivi qui? How long have you lived here? How long have you lived here? Perché sei triste? Why are you sad? Why are you sad? Qual è il punteggio? What is the score? What is the score? Dagli una possibilità. Give it a try. Give it a try. Quanto dovrò aspettare? How long will I have to wait? How long will I have to wait? Esprimi un desiderio. Make a wish. Make a wish. I would like to buy something. I would like to buy something. Ci risentiamo presto. We will talk soon. We will talk soon. Tu sei molto premuroso. You are very thoughtful. You are very thoughtful. Ha ragione. He's right. He's right. Sono pieno. I'm full. Ne vuoi ancora? Would you like some more? Would you like some more? Suo figlio? His son. His son. Arriverà a breve. It's will arrive shortly. It's will arrive shortly. Chi sta chiamando? Who's calling? Who's calling? Mi piacerebbe andare al negozio. I'd like to go to the store. I'd like to go to the store. Anche tuo marito viene da... Is your husband also from? Is your husband also from? È lontano? Is it far? È lontano? Is it far? Is it far? Is it far? We're recently separated. We're recently separated. Ho bisogno di connettermi alla rete. I need to get online. Sono un medico. I'm a doctor. Vorrei rimanere. I would like to stay. Oggi nevicherà. It's going to snow today. Qual è il problema? What is the matter? Per favore, rallenta. Please slow down. Il computer è rotto. Il computer è rotto. Sono ingrassato. Quali sono i loro nomi? 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 È bello vederti. Ero pensate con gli AMB in Italia. Buongiorno. Go Dawast. Buongiorno verlo. Mi fa male lo stomaco. Guidava troppo veloce. Dove sei? Capitolo tre. Parte E. È ok? È ok? È ok? Questo è il mio ragazzo. Questo è il mio ragazzo. Questo è il mio ragazzo. Come lo pronunci? Come lo pronunci? Come lo pronunci? Come lo pronunci? Cosa vorresti per colazione? Cosa vorresti per colazione? Mi puoi aiutare? Mi puoi aiutare? Ci siamo lasciati di comune accordo. It was a mutual break up. It was a mutual break up. Non ci vado. I'm not going. I'm not going. I'm not going. Buona idea. Good idea. Good idea. Lavoriamo insieme. Ha una mente acuta. She has a sharp mind. She has a sharp mind. Ti chiamerò. Ti chiamerò. I'll call you. I'll call you. Il mare è abbastanza calmo. The sea is quite calm. The sea is quite calm. Sono sposato. Sono sposato. I am married. I am married. La soluzione era semplice. The solution was simple. The solution was simple. Sono allergico al pesce. Sono allergico al pesce. Sono allergico al pesce. Sono allergico al pesce. Dove alloggerai? Where will you be staying? Where will you be staying? Ho freddo. I'm cold. I'm cold. I'm cold. Buttalo via. Throw it away. Throw it away. Io lavoro per il consiglio. I work for the council. I work for the council. Andiamo in sala da pranzo. Let us go into the dining room. Let us go into the dining room. Per favore, lasciami passare. Please let me through. Please let me through. Stai andando nella direzione sbagliata. You're going the wrong way. You're going the wrong way. È molto motivato. He is very dedicated. He is very dedicated. Qual è il punto? What is the point? What is the point? È troppo costoso. È troppo costoso. È troppo costoso. Sono molto eccitato. I am very excited. I am very excited. A che ora inizia il film? What time does the movie start? What time does the movie start? Ovviamente. Of course. Ovviamente. Of course. Sei mai stato qui prima d'ora? Sono un gran lavoratore. Odio il calcio. Mi piacerebbe andare a fare shopping. I'd like to go shopping. Dove sei andato all'università? Non ho ancora deciso. Potrebbe essere peggio. Sono andato a scuola. Sembra vecchio. Aumenta la pressione. Cambiamo argomento. Sto solo guardando. Sto solo guardando. È troppo. È troppo. È troppo. Sento uscire. Sento uscire. Ho bisogno di aiuto. Lo hai mai fatto prima? Prendo un bicchier d'acqua, per favore. I'll have a glass of water, please. Cos'è successo? What has happened? What has happened? Ha un atteggiamento negativo. He has a bad attitude. He has a bad attitude. Sono appena arrivato. I've only just arrived. I've only just arrived. Che cosa stai cercando? What are you looking for? What are you looking for? Sei bello. You are beautiful. You are beautiful. Sto cercando questo indirizzo. I'm looking for this address. I'm looking for this address. Vorrei usare internet. I'd like to use the internet. I'd like to use the internet. Accetti. Do you accept? Do you accept? Mio padre è stato lì. 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 È stato molto stimolante. volante. Avrà una spiegazione logica. È il tuo turno. È il tuo turno. Chi è quello? Chi è quello? Ora o più tardi? Ora o più tardi? Ora o più tardi? Sono direttore di un supermercato. Sono direttore di un supermercato. Prego, entra. No, grazie. No, grazie. Sono disoccupato. Sto cercando di trovare un lavoro. Fai silenzio. Mi piace guardare la tv. Fammi controllare. Non è vero. Non è abbastanza vicino. Non è abbastanza vicino. Mi innamoro facilmente. Ho bisogno di andare a casa. Ho bisogno di un visto? Sono arrivati ieri. Penso che... Penso che... il giorno precedente. Il giorno precedente. The previous day. The previous day. Puoi mostrarmi? Can you show me? Can you show me? Com'è il tempo? How is the weather? How is the weather? Ci sono stato. I've been there. I've been there. Avrei voluto avere. I wish I had. I wish I had. Sono felice di sentirlo. I am glad to hear it. I am glad to hear it. Questo è mio marito. Questo è mio marito. Questo è mio marito. È una pazzia. È una pazzia. That is crazy. That is crazy. Ho bisogno di un appuntamento. I need an appointment. Non sto lavorando in questo momento. I'm not working at the moment. I'm not working at the moment. ha senso. Does it make sense? Does it make sense? Does it make sense? Sto cercando lavoro. Sto cercando lavoro. I'm looking for work. I'm looking for work. Ce l'ho quasi fatta. Non mi interessa il calcio. Siamo pensionati. Non mi interessa il calcio. Più di quello. Più di quello. Più di quello. Più di quello. I'm crazy about you. I'm crazy about you. Sono pieno di energia. I am full of energy. I am full of energy. Per favore, sbrigati. Please hurry. Please hurry. Sono molto curioso. I am very curious. I am very curious. È aggressivo. He is aggressive. He is aggressive. Funziona? Does it work? Does it work? Un po'. Un po'. A little. La colazione è pronta. La colazione è pronta. Breakfast is ready. Breakfast is ready. Questa è mia moglie. This is my wife. This is my wife. Sono preoccupato anche io. I'm worried too. I'm worried too. I'm worried too. Capitolo 3. Capitolo bonus. Quanti anni ha? Quanti anni ha? How old are you? 5 minuti fa. 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 In the afternoon. Ha qualcos'altro? Do you have anything else? Do you have anything else? Che cosa c'è per dessert? What is for dessert? Non si senta intimidito. Do not feel intimidated. Amo i suoi occhi. I love your eyes. Può ripetere per favore? Can you repeat that, please? Can you repeat that, please? Va bene. That's fine. That's fine. Non sono sposato. I'm not married. I'm not married. Dove vive? Where do you live? Where do you live? Devo studiare. Da quanto tempo è qui? How long have you been here? How long have you been here? È molto opportuno. It is very convenient. It is very convenient. Non è una gran bella giornata. It's not a very nice day. It's not a very nice day. Sono esausto. I'm exhausted. I'm exhausted. Cosa significa? Cosa significa? What does this mean? What does this mean? Di dove è lei? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Quanto le piacerebbe? How much would you like? How much would you like? Dopodomani. The day after tomorrow. The day after tomorrow. C'è un negozio qui vicino. Is there a store near here? Is there a store near here? Potrebbe dirmi l'ora, per favore? Could you tell me the time, please? Could you tell me the time, please? Domani mattina. Tomorrow morning. Tomorrow morning. Smetta di incolpare gli altri. Stop blaming others. Stop blaming others. Vogliamo andare da qualche altra parte? Shall we go somewhere else? Shall we go somewhere else? Scade domani. It expires tomorrow. It expires tomorrow. A bambini. Ho paura per la sua incolumità. Chi sta parlando? Chi sta parlando? Chi sta parlando? A che ora? A che ora? Giusto. That's right. Abbiamo avuto un buon inizio. Abbiamo avuto un buon inizio. Abbiamo avuto un buon inizio. Ho 26 anni. I'm 26 years old. I'm 26 years old. Gli chiediamo di unirsi a noi? Shall we ask him to join us? Shall we ask him to join us? Il giorno seguente. Il giorno seguente. Non è giusto. Non è giusto. That's not right. That's not right. In bocca al lupo. Good luck. Good luck. questo mese. Questo mese. This month. This month. Attento. Watch out. Watch out. Giri. Turn around. Odio aspettare. I hate waiting. I hate waiting. Ha nevicato la notte scorsa. It's snowed last night. It's snowed last night. Può parlare più forte, per favore? Can you speak louder, please? Can you speak louder, please? Faccia con comodo. Take your time. Take your time. È vero. That's true. That's true. Io vivo a... I live in... I live in... Cosa c'è per cena? What is for dinner? What is for dinner? Tornerò più tardi. I'll come back later. I'll come back later. Non abbiamo figli. We do not have any children. We do not have any children. Capitolo 4. Parte A. L'istruzione è il fondamento su cui costruiamo il nostro futuro. Christine Gregoire. Familiarizza con naturalezza, con la nuova lingua e cerca di parlare in sincronia con il tutor audio. Hai una possibilità, prima di passare alla fase successiva. Sei fantastico. Come vi conoscete? Come vi conoscete? Lo spero. Lui è molto sofisticato. Non posso farlo ora Ho fame Aiutami, per favore Il suo lavoro è eccezionale Ha piovuto molto oggi Sono un cristiano Posso aiutarti? Non ti preoccupare Voglio farti un regalo Lo spero Lui è un idealista Ti va di andare a fare una passeggiata? Non molto bene Lui è creativo Siamo stati compagni di stanza Mi piace lui Come stai? Mio figlio studia informatica Ci piace molto Hai fratelli o sorelle? Non mi dà mai nulla Sono molto affidabile Abbiamo perso la partita Aiuto Sono stato licenziato Ho paura che L'hai sentito? Che cosa hai pensato? Vuoi una birra? Lui è potente Hanno una buona reputazione Fa freddo fuori Fa freddo fuori È sotto zero Sono malato Mi sono tagliato Mi sono tagliato Mi dispiace Siamo al completo Questa è la prima volta che sono qui Questa è la prima volta che sono qui In tre settimane In tre settimane Cominciamo Let us begin Siamo in ritardo Io ho tre bambini Parlo inglese fluentemente Cosa vorresti per cena? È vicino È vicino? È vicino? Gli piace la scuola? Gli piace la scuola? Abbiamo finito la benzina We've run out of petrol In quale università sei? Which university are you at? Mi piacerebbe andare a fare una passeggiata I'd like to go for a walk Ne ho uno in auto I have one in my car Questo è il suo libro That's her book È un miracolo It is a miracle Il cibo era pessimo The food was awful Non mi piace questo I do not like this Dimenticatene Forget it Ho intenzione di andare a cena I'm going to go have dinner Non ho una fidanzata I don't have a girlfriend Vi dispiace se ci uniamo a voi? Do you mind if we join you? Lei è impopolare She is unpopular Vuoi che accenda il televisore? Do you want me to put the TV on? Nessuno ci sta aiutando Nobody is helping us Puoi spegnere la luce? Can you switch the light off? Hai voglia di una pinta di birra? Do you fancy a pint? Provalo Try it on Sono un Sikh I'm a Sikh Cosa ti va da bere? What would you like to drink? Vuoi qualcosa da mangiare? Would you like something to eat? Lavori domani? Lavori domani? Are you working tomorrow? Fanno pagare 26 dollari al giorno? They charge 26 dollari per day È più veloce di me È un cammino piuttosto lungo 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 Il business è redditizio Sono bravo con i soldi Non tanto o non molto Sono entusiasta Hai mangiato abbastanza? Hai mangiato abbastanza? Per favore spegni la radio Non ho tempo adesso Addio Che ora è? È troppo dolce Ho bisogno di una firma Sono un po' in ritardo Nessun problema Di che colore è quella macchina? Ti ricorderai di me? Io sono vedova Posso acquistare un biglietto sul treno? Non sono sposato Sono ricchi Cosa fai nella vita? La tua opinione è preziosa Your opinion is valuable Vorrei comprare una bottiglia d'acqua I'd like to buy a bottle of water Come si prende? How do you take it? Sto venendo a prenderti I'm coming to pick you up Che lavoro fa? What does he do for work? Capitolo quattro Parte B È troppo piccante Non sono un turista Non sono un turista Non sono un turista Ho letto molto Studio economia Mi sento bene Mi sento bene Parlo francese Parlo francese Parlo francese È più grande di me Il tempo è bello Qual è il tasso di cambio? Qual è il tasso di cambio? Pago I'll pay È un ottimo studente He's a very good student È divertente That's funny Sono di fretta I'm in a hurry Come stanno I tuoi genitori? How are your parents? Sono davvero dispiaciuto I'm really sorry Ho un sacco di cose da fare I have a lot of things to do A che ora dovremmo incontrarci? What time shall we meet? Ci vediamo See you Ho ancora molto da fare I still have a lot to do È degno di fiducia He is trustworthy È stato divertente It was hilarious Da dove arrivi? Where have you traveled from? Non male, grazie Not too bad, thanks Loro non mi hanno accolto They did not accept me Farà freddo stasera It will be cold tonight L'altro ieri The day before yesterday Non ho finito di mangiare I haven't finished eating Non ti dimenticare Don't forget Questa è una tradizione Questa è una tradizione This is a tradition E tu? How about you? La stanza era silenziosa The room was silent Quanto vuoi pagare? How much do you want to pay? Quanti anni hanno? How old are they? Non essere sciocco Do not be silly In quel modo That way Dove vorresti che ci incontrassimo? Where would you like to meet? Il suo sguardo Può essere molto intenso His look Can be very intense Mi piace uscire I love going out Sto bene Grazie I'm okay Thanks Cosa ha detto? What did he say? Era fuori controllo It was out of control Non ne sono sicuro I'm not sure Ho bisogno di prove I need proof Il pranzo è pronto Lunch is ready Per favore Aspettami Please wait for me Va bene It's okay A che ora arriviamo? What time do we arrive? Mi sono perso I'm lost Pochi mesi A few months L'ho visto I've seen it Di la verità Tell the truth Dove devo pagare? Where do I pay? Dove dovremmo andare? Where should we go? Sei libero Stasera? Are you free tonight? Cosa fai? What do you do? Che c'è per pranzo? What is for lunch? La mia domanda È stata respinta My application was rejected Prendi questa strada Take this road Abbiamo giocato a calcio We played football Vorresti unirti a noi? Would you like to join us? Dov'è l'ufficio vendite? Voglio farti una domanda Voglio farti una domanda Ci vediamo lì See you there Mi piaci I like you Sono un docente universitario I am an academic Questo è sconvolgente That is upsetting Ho bisogno di lavarmi le mani I need to wash my hands Vuoi qualcosa da bere? Would you like something to drink? Perché stai ridendo? Why are you laughing? Il cibo era delizioso The food was delicious Posso parlare con Per favore? May I speak to Please E' mio It's mine Ieri sera Yesterday evening Dov'è il manuale? Where is the manual? Sono impegnato I am committed Mi piace molto ballare I really like dancing Per favore Lasciami in pace Please leave me alone Sei stato selezionato Sei stato selezionato You have been selected Sto prendendo un anno sabbatico I'm taking a gap year Dov'è la stazione di servizio Dov'è la stazione di servizio più vicina? Where's the nearest petrol station? Stasera Tonight Dove sono i tuoi bambini? Dove sono i tuoi bambini? Where are your children? Non penso proprio. Non penso proprio. È impossibile. È impossibile. La prossima volta. La prossima volta. Sei intelligente. Mi dispiace. Mi dispiace. Per favore, siediti. Nessun commento. Arrivo subito. Quanto costerà? Ho bisogno di un'altra chiave. Sarò lì tra cinque minuti. Mi piacciono le sorprese. Che cosa ci dice questo? Sono un cattolico. Ti dispiace se mi siedo qui? Sto studiando per diventare medico. Non fare lo sprecone. Sto studiando per diventare medico. Non essere un cattolico. State tutti bene. Capitolo quattro. Capitolo quattro. Parte C. Hai nipoti? La decisione è definitiva. La decisione è final. Che lingue parli? Non l'hanno ancora incontrata. Non l'hanno ancora incontrata. Il denaro non mi motiva. Pensa che non vogliamo andare. Pensa che non vogliamo andare. Lui è molto convincente. Lui è molto convincente. Ho preparato questa torta. Cosa posso fare per te? Cosa posso fare per te? Mi rifiuto di? Mi rifiuto di? È lontano? È lontano? Quanti anni ha? Sei uno studente? Sei uno studente? Sei un studente? Hai figli? Hai figli? Hai figli? Non sono andato all'università. Non sono andato all'università. Parlo due lingue. Parlo due lingue. I speak two languages. Conto su di te. I am counting on you. È stato facile. Non è lontano da qui. Non è lontano da qui. Qual è il problema? Esso crea troppi rifiuti. It creates too much waste. Cos'hai? Puoi chiamarmi un taxi per favore? I suoi vestiti sono molto moderni. Her clothes are very modern. Dove siamo adesso? Where are we now? Poco più di due anni. Just over two years. Sono determinato. I am determined. In quale università studi? At which university do you study? Sei da solo? Are you on your own? Sto facendo un corso in questo momento. I am doing a course at the moment. Lei è così socievole. She is so friendly. Vorrei andare a casa. I'd like to go home. Il prima possibile. As soon as possible. Di chi è la colpa? Who is to blame? Mi piace ascoltare musica. I like listening to music. Che bella giornata. What's a nice day? Sei molto gentile. You are very kind. Quanti? How many? Qual è l'obiettivo? What is the objective? Quanto tempo sei rimasto in America? How long have you been in America? Ho perso il lavoro. I lost my job. Mi hai fatto piangere. You made me cry. Hai fatto buon viaggio? Did you have a good journey? Vorrei mangiare qualcosa. I would like to eat something. Studia presso. E' lontano da qui. E' lontano da qui. It's far from here. Richiamerò più tardi. I'll call back later. Sono d'accordo. Quanto dura? How long is it? Lui non mi piace. I don't like him. Lei non mi piace. I don't like her. Quanto costa? How much is it? Si prevede pioggia. It's forecast to rain. Come paghi? How are you paying? Stai perdendo il tuo tempo. You are wasting your time. Non essere negativo. Do not be negative. Hai finito di studiare? Have you finished studying? Hai voglia di un drink veloce? Do you fancy a quick drink? La tua casa è come questa? Is your house like this one? Stai vedendo qualcuno? Are you seeing anyone? Sono un sognatore. I am a dreamer. Sì, ho capito. Yes, I understood. Non essere stupida. Do not be stupid. Come può essere? How can that be? Lavoro lì da cinque anni. I've worked there for five years. Domani sera. Tomorrow night. Ho un lavoro a tempo pieno. I've got a full-time job. Lui è in cucina. He's in the kitchen. Hai la mia parola. You have my word. La festa è stata annullata. The party has been cancelled. Sono scioccato. Prendi questa medicina. Take this medicine. Non ti deluderò. I won't let you down. Si voltò. Hai troppe scarpe. You have too many shoes. Perché hai detto ciò? Why did you say that? Mi sento solo. Ho il raffreddore. Ho il raffreddore. I have a cold. Che tipo di musica ti piace? What sort of music do you like? Non sono d'accordo. Sono bilingue. Sono bilingue. Ecco qui. Here it is. Lavoro in un call center. I work in a call center. Ma a che ora apre il negozio? What time does the store open? Chi è il prossimo? Who's next? I tuoi figli sono con te? Are your children with you? Quale squadra tifi? Which team do you support? Due settimane fa. Two weeks ago. Vorrei pagare il conto, per favore. I'd like to pay my bill, please. Sta arrivando. He's coming soon. Ho perso il mio orologio. I lost my watch. Lei è molto elegante. She is very elegant. Tu sei molto paziente. You are very patient. Ero in biblioteca. I was in the library. La mia famiglia era povera. My family was poor. Vorrei fare check out. Grazie per la bella serata. Grazie per la bella serata. Grazie per una bella serata. Che lavoro fa tuo padre? What does your father do for work? Mi piace il rischio. I like risk. No. Sono ateo. No. I'm an atheist. Capitolo 4. Parte D. Dove vivono i tuoi genitori? Where do your parents live? No. Questa è la prima volta. Mi piace. I like it. Devo andare ora. I need to go now. Andrò in America l'anno prossimo. I'm going to America next year. Lei pianse. She cried. Fallo bene. Do it properly. Il treno è in ritardo. The train is running late. Che peccato. That's too bad. Come lo scrivi? Come lo scrivi? Come lo scrivi? How do you spell it? Stai attento. Be careful. Questo è molto difficile. Qual è l'indirizzo? Qual è l'indirizzo? La settimana scorsa. Io di solito bevo caffè. Prova a pronunciarlo. Sei vestito in modo troppo formale. You are dressed too formal. Posso accompagnarti a casa in macchina. Lavoro nel settore IT. Lavoro nel settore IT. I work in IT. Sono stato molto occupato. I've been very busy. In dieci anni. In ten years time. Fa estremamente caldo. It is extremely hot. Dove lavori? Where do you work? Ho così tanti debiti. I have so much debt. Ho quasi finito. Mi piacerebbe. I would like. Posso offrirti da bere? May I buy you a drink? Voglio solo uno spuntino. I only want a snack. Io sono allergico. I am allergic. Lei è in pericolo. She is in danger. Ho perso il biglietto. I've lost my ticket. Sembra strano. Sono giapponese. Sono giapponese. I am giapponese. Ha detto una bugia. He told a lie. Fai buon viaggio. Have a good journey. Ho un piano. I have a plan. Sto imparando a suonare il piano forte. I'm learning to play the piano. È questo il tuo libro? Is this your book? Buongiorno. Good morning. Non ho passato l'esame. I failed the exam. Sono in città. I'm in town. Come dovrei rispondere? Come dovrei rispondere? Quanto dura il viaggio? How long does the journey take? Vorrei fare una telefonata. I'd like to make a phone call. Ho una gomma a terra. I've got a flat tire. È a nord di qui. It's north of here. Va bene. That's all right. Siamo stati a scuola insieme. We were at school together. Amo la poesia. I love poetry. Non bere e guidare. Don't drink and drive. Ti insegnerò. I'll teach you. Spiacente. È stata colpa mia. Sorry. It was my fault. Me lo ricordo. I remember. È occupato questo posto. Is this seat taken? Ha un aspetto magnifico. That looks great. Ho bisogno di annullare l'appuntamento. E' stata una decisione sensata. E' stata una decisione sensata. E' stata una conversazione costruttiva. domani è martedì. Tomorrow is Tuesday. Non sono mai andato all'università. Non sono mai andato all'università. Abbiamo apprezzato il nostro soggiorno. Buona giornata Lei è una esperta Lavoro da casa Devo andare all'ufficio postale Da quanto vivi qui? Perché sei triste? Qual è il punteggio? What is the score? Dagli una possibilità Give it a try Quanto dovrò aspettare? How long will I have to wait? Esprimi un desiderio Make a wish Vorrei comprare qualcosa I would like to buy something Ci risentiamo presto We will talk soon Tu sei molto premuroso You are very thoughtful Ha ragione He's right Sono pieno I'm full Ne vuoi ancora? Would you like some more? Suo figlio His son Arriverà a breve It will arrive shortly Chi sta chiamando? Mi piacerebbe andare al negozio Mi piacerebbe andare al negozio Mi piacerebbe andare al negozio I'd like to go to the store Anche tuo marito viene da Is your husband also from? È lontano? Is it far? Era delizioso That was delicious Ci siamo separati di recente We recently separated Ho bisogno di connettermi alla rete I need to get online Sono un medico I'm a doctor Vorrei rimanere I would like to stay Oggi nevicherà It's going to snow today Qual è il problema? What is the matter? Per favore rallenta Please slow down Il computer è rotto The computer is broken Sono ingrassato I gained in weight Quali sono i loro nomi? Quali sono i loro nomi? È bello vederti Good to see you Mi fa male lo stomaco My stomach hurts Guidava troppo veloce He drove too fast Dove sei? Where are you? Capitolo 4 Parte E È ok? Is that ok? Questo è il mio ragazzo Questo è il mio ragazzo Come lo pronunci? Come lo pronunci? Cosa vorresti per colazione? Cosa vorresti per colazione? Mi puoi aiutare? Can you help me? Ci siamo lasciati di comune accordo It was a mutual breakup Non ci vado I'm not going Buona idea Buona idea Lavoriamo insieme We work together Ha una mente acuta She has a sharp mind Ti chiamerò I'll call you Il mare è abbastanza calmo The sea is quite calm Sono sposato I am married La soluzione era semplice The solution was simple Sono allergico al pesce I'm allergic to seafood Dove alloggerai? Where will you be staying? Ho freddo I'm cold Buttalo via Throw it away Io lavoro per il consiglio I work for the council Andiamo in sala da pranzo Let us go into the dining room Per favore Lasciami passare Please let me through Stai andando nella direzione sbagliata You're going the wrong way È molto motivato He is very dedicated Qual è il punto? What is the point? È troppo costoso That's too expensive Sono molto eccitato I am very excited A che ora inizia il film? What time does the movie start? Ovviamente Of course Sei mai stato qui prima d'ora? Have you been here before? Sono un gran lavoratore I am very hard working Odio il calcio I hate football Mi piacerebbe andare a fare shopping I'd like to go shopping Dove sei andato all'università? Where did you go to university? Non ho ancora deciso I still haven't decided Potrebbe essere peggio It could be worse Sono andato a scuola I went to school in Sembra vecchio That looks old Aumenta la pressione Increase the pressure Cambiamo argomento Let us change the subject Sto solo guardando I am just looking Ha bisogno di batterie? Does it need batteries? È troppo That's too much Sto uscendo I'm going out Ho bisogno di aiuto I need some help Lo hai mai fatto prima? Have you done this before? Prendo un bicchier d'acqua Per favore I'll have a glass of water Che cosa stai cercando? What are you looking for? Sei bello You are beautiful Sto cercando questo indirizzo I'm looking for this address Vorrei usare internet I'd like to use the internet Accetti Do you accept? Mio padre è stato lì My father has been there È stato molto stimolante That was very inspiring Avrà una spiegazione logica It needs a logical explanation È il tuo turno It is your turn Chi è quello? Who is that? Ora o più tardi Now or later Sono direttore di un supermercato I'm a supermarket manager Prego, entra Please come in No, grazie No, grazie No, thank you Sono disoccupato I'm unemployed Sto cercando di trovare un lavoro Sto cercando di trovare un lavoro I am trying to find work Fai silenzio Be quiet Mi piace guardare la tv I like to watch tv I like to watch tv Fammi controllare Let me check Non è vero That's not true Non è abbastanza vicino It's not quite close Mi innamoro facilmente I fall in love easily Ho bisogno di andare a casa I need to go home Ho bisogno di un visto? Do I need a visa? Sono arrivati ieri They arrived yesterday Penso che I think that Il giorno precedente The previous day Puoi mostrarmi? Can you show me? Com'è il tempo? How is the weather? Ci sono stato I've been there Avrei voluto avere I wish I had Sono felice di sentirlo I am glad to hear it Questo è mio marito This is my husband È una pazzia That is crazy Ho bisogno di un appuntamento I need an appointment Non sto lavorando In questo momento Non sto lavorando I'm not working I'm not working At the moment Ha senso? Does it make sense? Ho bisogno di cambiarmi I need to change clothes Sto cercando lavoro I'm looking for work Ce l'ho quasi fatta I nearly made it Siamo pensionati We are retired Non mi interessa il calcio I'm not interested in football Più di quello More than that Sono pazzo di te I'm crazy about you Sono pieno di energia I am full of energy Per favore, sbrigati Please hurry Sono molto curioso I am very curious È aggressivo He is aggressive Funziona? Does it work? Un po' A little La colazione è pronta Breakfast is ready Questa è mia moglie Questa è mia moglie This is my wife Sono preoccupato anche io I'm worried too Capitolo 4 Capitolo 4 Quanti anni ha? How old are you? Cinque minuti fa Five minutes ago Nel pomeriggio Nel pomeriggio In the afternoon Ha qualcos'altro? Do you have anything else? Che cosa c'è per dessert? Non si senta intimidito Do not feel intimidated Amo i suoi occhi I love your eyes Può ripetere Per favore? Can you repeat that, please? Va bene That's fine Non sono sposato I'm not married Dove vive? Where do you live? Devo studiare I need to study Da quanto tempo è qui? How long have you been here? È molto opportuno It is very convenient Non è una gran bella giornata It's not a very nice day Sono esausto I'm exhausted Cosa significa? What does this mean? Di dove è lei? Where are you from? Quanto le piacerebbe? Dopodomani Dopodomani C'è un negozio qui vicino Potrebbe dirmi l'ora Per favore? Could you tell me the time, please? Domani mattina Domani mattina Tomorrow morning Smetta di incolpare gli altri Stop blaming others Vogliamo andare da qualche altra parte? Shall we go somewhere else? Scade domani It expires tomorrow A bambini Do you have any children? Ho paura per la sua incolumità I fear for her safety Chi sta parlando? Chi sta parlando? Chi sta parlando? A che ora? A che ora? Giusto That's right Abbiamo avuto un buon inizio Abbiamo avuto un buon inizio Ho 26 anni I'm 26 years old Gli chiediamo di unirsi a noi? Shall we ask him to join us? Il giorno seguente The following day Non è giusto That's not right In bocca al lupo Good luck Questo mese This month Attento Watch out Giri Turn around Odio aspettare I hate waiting Ha nevicato la notte scorsa It snowed last night Può parlare più forte per favore? Can you speak louder, please? Faccia con comodo Take your time È vero That's true Io vivo a I live in Cosa c'è per cena? What is for dinner? Tornerò più tardi I'll come back later Non abbiamo figli We do not have any children Capitolo 5 Parte A L'istruzione formale Vi preparerà alla vita L'auto-istruzione Vi farà guadagnare una fortuna Jim Rohn È tempo di mettervi alla prova Per migliorare la tua fluidità Ascolterai e ripeterai senza le traduzioni audio Se lo consideri troppo impegnativo Ripeti uno o due dei precedenti capitoli Quindi prova di nuovo questo capitolo You are amazing How do you know each other? I hope that He is very sophisticated I cannot do it now I'm hungry Please help me His work is exceptional It's rained hard today I'm a Christian Can I help you? Don't worry about it I want to give you a gift I hope so He is an idealist Would you like to go for a walk? Not so well He is creative We were roommates I like him How are you? My son studies computers We like it very much Do you have any brothers or sisters? He never gives me anything I am very reliable We lost the game Help I got fired I'm afraid that Did you hear that? What did you think? Would you like a beer? He is powerful They have a good reputation Is it cold outside? It's below freezing I am sick I've gutt myself I'm sorry We're sold out This is the first time I've been here In three weeks time Let us begin We're late I have three children I am fluent in English What would you like for dinner? Is it close? Does he like the school? We've run out of petrol Which university are you at? I'd like to go for a walk I have one in my car That's her book It is a miracle The food was awful I do not like this Forget it I'm going to go have dinner I don't have a girlfriend Do you mind if we join you? She is unpopular Do you want me to put the TV on? Nobody is helping us Can you switch the light off? Do you fancy a pint? Try it on I'm a Sikh What would you like to drink? Would you like something to eat? Are you working tomorrow? They charge $26 per day He's faster than me It's quite a long way The business is profitable I am good with money Not much or not a lot I am enthusiastic Have you had enough to eat? Please turn off the radio I don't have time right now Goodbye What is the time? It is too sweet I need a signature I'm running a little late No problem What colour is the car? Will you remind me? I'm a widow Can I buy a ticket on the train? I am not married They are rich What do you do for a living? Your opinion is valuable I'd like to buy a bottle of water How do you take it? I'm coming to pick you up What does he do for work? Capitolo 5 Parte B It is too spicy I am not a tourist I read a lot I study economics I feel good I speak French She's older than me The weather is fine What is the exchange rate? I'll pay He's a very good student That's funny I'm in a hurry How are your parents? I'm really sorry I have a lot of things to do What time shall we meet? See you I still have a lot to do He is trustworthy It was hilarious Where have you travelled from? Not too bad Thanks They did not accept me It will be cold tonight The day before yesterday I haven't finished eating Don't forget This is a tradition How about you? The room was silent How much do you want to pay? How old are they? Do not be silly That way Where would you like to meet? His look can be very intense I love going out I'm okay Thanks What did he say? It was out of control I'm not sure I need proof Lunch is ready Please wait for me It's okay What time do we arrive? I'm lost A few months I've seen it Tell the truth Where do I pay? Where should we go? Are you free tonight? What do you do? What is for lunch? My application was rejected Take this road We played football Would you like to join us? Where's the sales office? I want to ask you a question See you there I like you I am an academic That is upsetting I need to wash my hands Would you like something to drink? Why are you laughing? The food was delicious May I speak too Please It's mine Yesterday evening Where is the manual? I am committed I really like dancing Please leave me alone You have been selected I'm taking a gap year Where's the nearest petrol station? Tonight Where are your children? I don't think so It is impossible Next time You are clever I'm sorry Please sit down No comment I'm coming right now How much will it cost? I need another key I'll be there in five minutes I like surprises What does that tell us? I'm a Catholic Do you mind if I sit here? I am studying to be a doctor Do not be wasteful Is everyone okay? Capitolo 5 Parte C Do you have grandchildren? The decision is final What languages do you speak? They haven't met her yet Money does not motivate me He thinks we don't want to go He is very convincing I baked this cake What can I do for you? I refuse to Is it far? How old is he? Are you a student? Have you got any kids? I didn't go to university I speak two languages I am counting on you It was easy It is not far from here What is the problem? It creates too much waste Much waste What do you have? Could you please call me a taxi? Her clothes are very modern Where are we now? Just over two years I am determined At which university do you study? Are you on your own? I am doing a course at the moment She is so friendly I'd like to go home As soon as possible Who is to blame? I like listening to music What's a nice day? You are very kind How many? What is the objective? How long have you been in America? I lost my job You made me cry Did you have a good journey? I would like to eat something He studies at It's far from here I'll call back later I agree How long is it? I don't like him I don't like her How much is it? It's forecast to rain How are you paying? You are wasting your time Do not be negative Have you finished studying? Do you fancy a quick drink? Is your house like this one? Are you seeing anyone? I am a dreamer Yes, I understood Do not be stupid How can that be? I've worked there for five years Tomorrow night I've got a full-time job He's in the kitchen You have my word The party has been cancelled I am shocked Take this medicine I won't let you down He turned around You have too many shoes Why did you say that? I feel lonely I have a cold What sort of music do you like? I disagree I am bilingual Here it is I work in a call center What time does the store open? Who's next? Are your children with you? Which team do you support? Two weeks ago I'd like to pay my bill, please He's coming soon I lost my watch She is very elegant You are very patient I was in the library My family was poor I'd like to check out Thanks for a lovely evening What does your father do for work? I like risk No, I'm an atheist Capitolo 5 Parte D Where do your parents live? No, this is the first time I like it I need to go now I'm going to America next year She cried Do it properly The train is running late That's too bad How do you spell it? Be careful This is very difficult What is the address? Last week I usually drink coffee Try to pronounce it You are dressed too formal Can I drive you home? I work in IT I've been very busy In 10 years time It is extremely hot Where do you work? I have so much debt I am nearly finished I would like May I buy you a drink? I only want a snack I am allergic She is in danger I've lost my ticket That looks odd I am Japanese He told a lie Have a good journey I have a plan I'm learning to play the piano Is this your book? Good morning I failed the exam I'm in town How should I respond? How long does the journey take? I'd like to make a phone call I've got a flat tire It's north of here That's alright We were at school together I love poetry Don't drink and drive I'll teach you Sorry It was my fault I remember Is this seat taken? That looks great I need to cancel the appointment That was a sensible decision I'm doing a master's in law I regret that It was a constructive conversation Tomorrow is Tuesday I never went to university We've enjoyed our stay Good day She is an expert I work from home I have to go to the post office How long have you lived here? Why are you sad? What is the score? Give it a try How long will I have to wait? Make a wish I would like to buy something We will talk soon You are very thoughtful He's right I'm full Would you like some more? His son It will arrive shortly Who's calling? I'd like to go to the store Is your husband also from? Is it far? That was delicious We recently separated I need to get online I'm a doctor I would like to stay It's going to snow today What is the matter? Please slow down The computer is broken I gained in weight What are their names? Good to see you My stomach hurts He drove too fast Where are you? Capitolo 5 Parte E Is that okay? This is my boyfriend How do you pronounce that? What would you like for breakfast? Can you help me? It was a mutual breakup I'm not going Good idea We work together She has a sharp mind I'll call you The sea is quite calm I am married The solution was simple I'm allergic to seafood Where will you be staying? I'm cold Throw it away I work for the council Let us go into the dining room Please let me through You're going the wrong way He is very dedicated What is the point? That's too expensive I am very excited What time does the movie start? Of course Have you been here before? I am very hard working I hate football I'd like to go shopping Where did you go to university? I still haven't decided It could be worse I went to school in That looks old Increase the pressure Let us change the subject I am just looking Does it need batteries? That's too much I'm going out I need some help Have you done this before? I'll have a glass of water please What has happened? He has a bad attitude I've only just arrived What are you looking for? You are beautiful I'm looking for this address I'd like to use the internet Do you accept? My father has been there That was very inspiring It needs a logical explanation It is your turn Who is that? Now or later I'm a supermarket manager Please come in No thank you I'm unemployed I am trying to find work Be quiet I like to watch TV Let me check That's not true It's not quite close I fall in love Easily I need to go home Do I need a visa? They arrived yesterday I think that The previous day Can you show me? How is the weather? I've been there I wish I had I am glad to hear it This is my husband That is crazy I need an appointment I'm not working at the moment Does it make sense? I need to change clothes I'm looking for work I nearly made it We are retired I'm not interested in football More than that I'm crazy about you I am full of energy Please hurry I am very curious He is aggressive Does it work? A little Breakfast is ready This is my wife I'm worried too Capitolo cinque Capitolo bonus How old are you? Five minutes ago In the afternoon Do you have anything else? What is for dessert? Do not feel intimidated I love your eyes Can you repeat that please? That's fine I'm not married Where do you live? I need to study How long have you been here? It is very convenient It's not a very nice day I'm exhausted What does this mean? Where are you from? How much would you like? The day after tomorrow Is there a store near here? Could you tell me the time, please? Tomorrow morning Stop blaming others Shall we go somewhere else? It expires tomorrow Do you have any children? I fear for her safety Who is speaking? At what time? That's right We had a good start I'm 26 years old Shall we ask him to join us? The following day That's not right Good luck This month Watch out Turn around I hate waiting It snowed last night Can you speak louder, please? Take your time That's true I live in What is for dinner? I'll come back later We do not have any children We do not have any children We do not have any children Grazie per aver ascoltato LingoJump Diritto d'autore e Produzione LingoJump 2017 Audible ti ringrazia per l'ascolto A risentirci Let's see Longejump ander Deep E E Nou listen ası E им Grazie a tutti. 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 a tutti.